Buongiorno a tutti, oggi è il 24 febbraio 2022 e siamo collegati per ancora una puntata del nostro canale Fight the Virus su un argomento che ha riscosso già dall'inizio, dall'annuncio dell'argomento, tantissime domande, tantissime richieste di approfondimenti da parte delle nostre famiglie. Oggi con noi c'è il dottor Manuele Lampasi, buongiorno Manuele. Buongiorno, buongiorno a te, grazie. E benvenuto, Manuele è un ortopedico pediatrico, si occupa in particolare di quelle problematiche ortopediche che sono connesse a problemi neurologici ed è per questo che è comunque un professionista interessante per noi, sia perché è un tipo di professione abbastanza rara sul territorio italiano, sia perché poi il tema legato al cammino, a interventi spesso non reversibili è un argomento che è sempre molto presente nelle conversazioni dei genitori fin dall'età della prima diagnosi, quindi parliamo di bambini con paralisi cerebrale infantile. Manuele, prima di iniziare facciamo un patto d'aula, primo ci diamo del tu, così ristabiliamo le asimmetrie, bastasse solo darsi del tu per ristabilire le asimmetrie e ognuno di noi poi è consapevole del ruolo del fatto che io rappresento i genitori, quindi un audience abbastanza allargata e variegata, in questo caso bambini con paralisi cerebrale infantile che possono avere un range, uno spettro molto ampio di esiti rispetto alla lesione neurologica e che soprattutto non siamo esperti di linguaggi molto tecnici, molto scientifici, per cui spesso proprio nella riunione con l'ortopedico spesso si esce fuori in cui non si è capito molto, forse con il neurologo forse è peggio ancora quando ti restituisce il referente, però anche con l'ortopedico si fa poi fatica, tanto che appunto oggi abbiamo condiviso di assecondare, di leggere una serie di domande che i genitori ci hanno fatto e Emanuele oggi ci accompagnerà in questa presentazione, questa condivisione dello schermo che vedrà appunto toccare tutti questi punti di cui abbiamo parlato. In linea generale vi anticipo che parleremo innanzitutto ceni di anatomia e fisiologia proprio perché appunto ne sappiamo poco e per riuscire ad interpretare meglio la diagnosi e la prognosi e i futuri interventi di questi bambini è assolutamente fondamentale per noi capire il linguaggio. Parleremo di spasticità verso flaccidità, anche questo è un tema molto ricorrente nelle famiglie, nei discorsi delle famiglie, quanto poi la spasticità possa a volte anche essere utile soprattutto quando parliamo del cammino. Parliamo di interventi chirurgici comuni nelle paralisi cerebrali infantili e su quando ricorrere alla chirurgia in età evolutiva. Parliamo di anche un confronto rispetto a interventi che si facevano fino a alcuni anni fa e che invece oggi sono passati, non so se sono passati in moda o forse l'innovazione scientifica, l'innovazione tecnologica che ci ha portato poi a scegliere delle altre strade. Parleremo di termini legati a interventi che lo stesso ricorrono spesso nelle conversazioni, cioè SDR o all'italiana RDS, cioè l'intervento di rizzotomia dorsale selettiva, l'intervento di fibrotomia, di tenotomia, i problemi legati all'iperestensione del ginocchio. Un altro tema che ricorre spessissimo è il tema della gamba più corta, quindi il fatto che questi bambini in età evolutiva crescono con problemi di eterometria oppure anche problemi che si presentano nella seconda fase tipo i piedi piatti e proni, quanto queste casistiche siano frequenti e quale può essere poi il consiglio. Direi che abbiamo introdotto anche molto nei dettagli questa presentazione di Emanuele, Emanuele lascio a te il campo sia per una presentazione se vuoi anche più dettagliata della tua figura, perché oggi credo che ci sia un po' di confusione anche su qual è il ruolo dell'ortopedico, poi anche questa figura del chirurgo ortopedico, noi siamo abituati a ragionare con il neuropsichiatra infantile e dall'altra parte magari il neurochirurgo, mentre nel tuo caso, nel caso della tua professione, questo tipo di competenze coincidono. Esatto, esatto, infatti come dicevo ho voluto fare una piccola premessa alla presentazione e dopo risponderemo un po' a tutti questi quesiti, tutte le cose che avete un po' preparato, però volevo un attimo, perché diciamo negli ultimi anni il ruolo poi è cambiato negli anni, adesso è tanti anni che mi occupo di questo ambito e il modo di vedere anche l'ortopedico un po' si è modificato nel tempo, poi con l'introduzione anche dei social, insomma anche i rapporti con i genitori e le famiglie ha avuto delle modifiche, quindi ho creduto che fosse doveroso anche accennare a questa problematica, adesso credo dovresti riuscire a vedere il mio schermo. Esatto, non mi sono presentato giusto l'acceno, ho lavorato per tanti anni a Rizzoli di Bologna e dopo sono fatto il responsabile all'ortopedia pediatrica e alla neuroortopedia Almayer di Firenze, adesso con altri colleghi siamo usciti fuori dal Maier, abbiamo fondato un nuovo gruppo che si chiama Ortopediatria, giriamo un po' l'Italia, è proprio il nostro ruolo a parte operare, a parte fare ambulatorio eccetera, ma vogliamo veramente diffondere diciamo un po' delle conoscenze sul territorio e far migliorare credo quello che sia un po' le problematiche diciamo nel concreto, quindi sul territorio, più che lavorare solo tra massimi esperti, ma vogliamo migliorare la comunicazione con le famiglie e con altri operatori sanitari con i quali a volte si è staccati, per esempio con i pediatri, i neuropsichiatri, i fisioterapisti, questo è un po' il nostro, diciamo, foco. Ci vuoi dire, Emanuele, anche a livello di territorio in Italia, dov'è che ti capita di visitare, magari può essere interessante, da Bologna? Diciamo, da Bologna allora siamo molto dinamici, diciamo, io personalmente mi muovo sia nel Veneto, quindi tra Padova, adesso vado nelle Marche a Senigallia, vado vicino Roma, vado in Toscana e poi altri colleghi che lavorano con me, la loro volta loro si muovono e arriviamo fino in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, insomma stiamo coprendo un po' il territorio nazionale, la cosa che cerchiamo di fare è di avere tutti quanti le stesse idee, la stessa mentalità, diciamo, ecco, cerchiamo di, siamo tutti giovani ma con voglia di fare l'esperienza allo stesso tempo. Comunque, andiamo avanti subito a parlare di questa problematica, perché quando mi hai contattato io ero stato molto contento, perché veramente è una criticità questa qua, no? Innanzitutto, come giustamente detto, la neuroortopedia è un campo super, super, super selettivo, è una cosa che praticamente non piace a nessuno, fondamentalmente, probabilmente perché è poco remunerativa, però richiede delle competenze molto specifiche, allora in Italia siamo veramente pochi e sempre di meno in realtà, quando qualcuno va in pensione poi, diciamo, dal basso la formazione degli ortopedici in generale va verso la protea esica, verso altre branche, quindi è difficile unire queste competenze che sono molto trasversali. Ma la problematica che abbiamo, anche noi pochi che ci siamo, è un pochettino anche la relazione con, diciamo, con chi ci sta intorno, perché c'è un po' di diffidenza, questo c'è sempre un po' stato, all'ortopedico viene visto, no? Come la persona un po' cruenta, no? Che fa interventi, diciamo, cattivi. Questo anche nei nostri, in fronte dei nostri colleghi o dei fisioterapisti, mi capita di vedere i pazienti che le famiglie mi dicono, no, no, il fisioterapista diceva di non venire perché peggiorerà se vado all'ortopedico, no? C'è la paura che noi facciamo delle cose che fanno star peggio. Allora mi sono domandato un po' da dove arriva questa cosa. Penso che in parte sia colpa nostra, no? Cioè in parte gli interventi che abbiamo fatto in passato o che si fanno ancora con modalità sbagliate e che hanno portato magari a peggioramenti. Allora rimane nell'orecchio questa cosa di un peggioramento e dici inutile che vai a fare un intervento per star peggio. E questo siamo d'accordo. Però questo non vuol dire che non devi andare all'ortopedico, ma secondo me che devi rivolgerti a chi si dedica a questo dalla mattina alla sera, perché le conoscenze, come vedremo, sono molto cambiate in questi anni. Oppure a volte non si sa nemmeno di quello che può fare un ortopedico e quindi semplicemente non si invia perché non hai un'idea di quello che c'è di possibilità. O perché spesso non fa parte dell'equip, no? Siamo abituati a vedere il fisiatra, il fisioterapista, però questa figura forse si sovrappone anche molto vicina al ruolo del fisiatra, no? Esatto, però il fisiatra, come dire, i fisiatri con cui collaboro, che sono bravi, secondo me hanno la percezione del loro limite, dove devono fermarsi e dove devono inviare. Ma poi inviare non è che vuol dire che io per forza lo devo operare, no? Questo credo che sia anche il concetto. Cioè, tu mi invi, io prendo atto, ti dico, no, non è da operare, però già conosco la situazione e ti dico quando potrebbe essere, no? Cioè, c'è una collaborazione e nasce per questo. Quindi non è per forza, io non riesco più a fare niente, sono disperato, allora provo anche quella strada lì, no? Secondo me, cioè, si può cambiare un po' questa interazione, diciamo. L'altra criticità sono, per esempio, nei confronti delle famiglie. Chiaro, questo è inevitabilmente, no? Chi ha una problematica, ha un po' paura di effettuare un intervento grosso, tra virgolette, e spera sempre che ci possa essere una strada minore, no? Conservativa, insomma, di più dolce. A volte, purtroppo, si spera in miracoli, insomma. Il problema è anche che in quest'ambito, per chi ci sta dentro da tanti anni, periodicamente esce fuori una promessa nuova. La pura miracolosa. Esatto. A volte, sì, a volte magari è l'inizio di qualcosa, a volte invece purtroppo non lo è, c'è tanta gente che va dietro e sbagliando. Chiaramente non sono colpe, però bisogna che chi c'è dentro, come anche il vostro ruolo, per esempio, come gruppo, eccetera, credo che il ruolo sia fondamentale, questo qua, perché chi guida, per esempio, qua l'ho messo, il ruolo dei social. Chi è a capo di questi gruppi, o anche su Facebook, adesso ogni genitore che ha questa problematica, la prima cosa che fa ormai è andare su Facebook, no? Quindi se si imbatte in un leader di un gruppo che, come dire, non ha quelle capacità, perché non è che c'è un corso, no? Per queste cose, credo almeno. No, in realtà sì, c'è un corso, ci sono delle competenze anche in questo ambito, di community manager, di pazienti esperti, anche su questo si studia. Poi, ecco, molto democratico, con barriere basse all'entrata, c'è di tutto. Esatto, esatto. E lo vedo in altri ambiti, chiaramente non c'è solo il vostro, però chiunque di noi come medico ha a che fare con mille gruppi di ogni singola patologia del suo gruppo e ti accorgi che ci sono quei gruppi che sono positivi e propositivi e con cui andiamo a braccetto, andiamo d'accordissimo, e altri invece che diventano un pochettino dei limiti, ostacoli, creano difficoltà, creano diffidenza. La cosa peggiore secondo me è la diffidenza. Quando c'è questa diffidenza, verso la medicina tradizionale, si cercano strade a volte non dimostrate e così, secondo me poi si va verso problematiche, insomma. Sì, una deriva che poi è difficile da gestire. Ho segnato anche l'esterofilia, questo ci caratterizza, spesso è molto meglio uno che sta, non so, in Spagna, piastro che in America, semplicemente perché sta lì, ma magari fa peggio di quello che faccio io a 50 chilometri da casa, insomma, però va bene. E poi c'è anche la difficoltà, io ho visto alcuni che si sottopongono ad interventi, prima di tutto sono carichi su questi gruppi di social, dopodiché quando poi la cosa vanno male e poi dopo non osano nemmeno dirlo, lo vengono a raccontare nelle visite che facciamo in ambulatorio o se provano a dire mezza parola magari vengono poi tacciati di aver sbagliato loro, insomma cambia completamente la dinamica. Però va bene, adesso non voglio addentrarmi troppo in questa cosa. Quello che voglio sottolineare è che dal punto di vista nostro abbiamo delle grandissime potenzialità, questo ogni tanto noi pubblichiamo dei video, ma non per dire che anche noi facciamo miracoli, però ci sono delle strade possibili laddove si crede che non ci sia più possibilità, insomma. L'altro lato della medaglia è che anche noi abbiamo le nostre colpe, cioè anche dal nostro punto di vista di medici o di ortopedici c'è bisogno di serietà, che cosa bisogna fare? Non dobbiamo rincorrere le mode, questo magari ne parliamo dopo quando si parla di alcune tecniche specifiche, non dobbiamo utilizzare delle tecniche descritte in modo vago, dove la letteratura non ci dà il sostegno, non sappiamo neanche di che cosa si tratta, però ci lanciamo a farle senza capire di che si tratta, dobbiamo rimanere comunque seri e in questo ambito, come ho già detto, è necessaria molta specializzazione, secondo me purtroppo non è che ogni ortopedica può fare certi interventi, perché alcuni interventi dal punto di vista tecnico sono molto facili, allungare un tendine d'Achille per esempio è un intervento molto facile, però puoi farlo in modo sbagliato, con le indicazioni sbagliate e creare dei grossi danni, quindi credo che sia giusto affidarsi a chi fa questo, anche per interventi molto semplici. Il messaggio poi importante è che ogni volta che noi cerchiamo di renderla facile, comprensibile eccetera, per qualcuno come in questo caso che ci stiamo provando, però il rischio è che semplificando facciamo una cosa sbagliata. Vero, questo lo vediamo un po' dappertutto, in tutte le comunicazioni anche relative a questo periodo di emergenza, che tutte le volte che cerchiamo proprio di semplificare in 140 caratteri, perché quello è lo spazio e poi in realtà generiamo una complessità maggiore, una sfiducia maggiore e quindi assolutamente attenzione anche dal nostro punto di vista, quindi prendiamoci tutto il tempo per spiegare. Ok, ci proviamo, infatti vedete prima slide che ho messo qua, noi parliamo di un problema complesso, cerchiamo di semplificarlo ma la cosa è complessa, questo per esempio è l'algoritmo base di come noi andiamo a valutare una situazione a un bambino che cammina per esempio, vedete che è tutto un insieme di analisi che noi facciamo che riguardano la visita, l'esame obiettivo, l'anamnesi, abbiamo una serie di scale, di modelli, insomma c'è tutta una complessità dove l'ABC per un bambino che cammina è conoscere perfettamente a meno dito il ciclo del passo per esempio, le varie fasi, il bambino che cammina quando appoggia, quando il piede invece è in aria, cioè questi sono elementi che purtroppo non sono noti a tutti gli ortopedici, non per parlare male dei miei colleghi, però insomma è l'ABC di uno che vuole analizzare un bambino complesso, partireva veramente dalle basi anche della cinematica e questo vedete, sono le curve per esempio che vengono fuori quando si fa una gate analysis, no? Cioè attraverso la telecamerina e i software poi ti danno delle curve che fanno vedere come ogni singola articolazione si muove, come si muove il ginocchio, come si muove la caviglia, come si muove l'anca, cose che tu ad occhio nudo non riesci al 100% a cogliere, quindi anche qui il limite, nel tempo si è andati da semplicemente una visita, faccio una visita e vedo come si muove la caviglia e decido di fare l'intervento, no? Poi si è capito che la caviglia era in relazione al ginocchio, era in relazione all'anca, poi si è capito che però in realtà erano queste tre cose in un bambino, in quel bambino, in quel bambino con quella forma di paralesi cerebrale, con quella sua prognisi, con la sua età, cioè tutta una serie di fattori che devo prendere in considerazione, quindi da che guardavo, dallo spioncino e che ho allargato il campo in maniera enorme e ho capito anche che andrebbe bene vederlo al rallentatore, perché a occhio nudo velocemente faccio fatica, infatti spesso durante le visite io col cellulare, ormai è comodissimo, col cellulare faccio un video anche davanti alla famiglia, proprio perché mi rendo conto che non è, per quanto io mi senta, tra virgolette, no? Un po' esperto, però devi avere anche come dire, no? L'onestà, l'umiltà, devi dire alt, magari a velocità, col bambino magari anche poco collaborante, qualche cosa non l'occolta, esatto, e allora la riguarda il rallentatore, ma questa è la pratica clinica ambulatoriale, se poi devo decidere di fare un intervento, forse non basta nemmeno questo, anzi tolgo il forse, ci vuole le telecamere, ci vuole le pedane di forza, cioè andare a vedere tanti aspetti anche di forze che è in gioco che l'occhio nudo e neanche l'esperienza ti può dare al cento per cento, ok? Ricordiamo, scusa Manuele, non abbiamo detto all'inizio che la tua relazione oggi sarà incentrata soprattutto sugli arti inferiori, sia perché appunto è un ambito già di suo molto ampio, molto esteso e poi avevamo già fatto in passato anche una chiacchierata sempre su questo canale, su Fedavirus, relativo proprio all'arto superiore ai problemi legati appunto al bambino emiplegico, per cui volentieri ci interessa tantissimo e mi intriga almeno personalmente molto questo ciclo del passo perché rispetto a un bambino mi viene in mente a sviluppo tipico, probabilmente anche i passaggi evolutivi, i primi passi, il mettersi in piedi su un bambino con PC dalla nascita sono diversi, no? Cioè c'è quindi uno slittamento più avanti? Sì, esatto, esatto. Tutto è stato più avanti e poi si installano dei meccanismi in parte legati alle criticità, diciamo, adesso le vediamo comunque questi aspetti, sia di controllo che di spasticità e di muscolatura, insomma. Purtroppo se ne parlo. Allora, quindi adesso qui ho iniziato a fare qualche cenno, giusto in funzione di quello che ti voglio dire, cioè come sta cambiando la chirurgia ortopedica, proprio quindi tutto funzionale al discorso che facciamo. Aspetta, perché ho un'immagine sopra che mi copre un pochettino la scritta, scusa che prendo... Sì, anch'io la vedo, eccola, perfetto. Ah, coprivo anche l'immagine. Speriamo. Sì, anche qui in basso, se riesci a toglierla perché a me non fa toglierla. Questa? Sì. Ah, perfetto. Benissimo. Scusami, ok, adesso andiamo avanti. Allora, questa è la teoria tradizionale, come viene spiegata la parallele cerebrale e gli interventi che facciamo, si dice, allora, il bambino è spastico, la spasticità perdurando, questa contrazione che si crea nei muscoli, rimangono talmente contratti che a poco a poco si determinano delle alterazioni della muscolatura e dei tessuti che a poco a poco si rigidiscono e danno la retrazione, cioè si accorcia la muscolatura. Quindi la causa di tutto è la spasticità. E viene detto che i muscoli più colpiti sono questi qui, quelli biarticolari, quindi l'ilopsoas, gli hamstrings, cioè gli ischio crurali o flessore del ginocchio e il tricipite e gli adduttori, ok? Quindi che succede? Se questa è la teoria, e quindi per decenni si è ragionato così, l'elemento chiave qual è? Trattare la spasticità, ok? Quindi più presto possibile, in maniera più aggressiva possibile, trattare questa spasticità e se si formano le contratture, le retrazioni, andare ad allungare i muscoli per abbatterli, perché questo è un problema che poi nel lungo termine va a deformare il resto, le ossa, eccetera. Quindi un intervento di prevenzione? Di prevenzione se lavori sulla spasticità, purtroppo non si riesce poi a stargli dietro a questa cosa e allora quando, man mano che si formano le retrazioni, si vanno a operare queste retrazioni muscolari, no? Questo è il comportamento che, diciamo, negli ultimi 30 anni, 40 anni si è fatto fondamentalmente. Allora la domanda è se questa idea di fondo, che ancora si vede in qualche relazione, è valida oppure no? E chiaramente la risposta sarà no, perché questa cosa si è modificata, quest'idea di fondo. Cioè non c'è più la spasticità al centro del villaggio, ma la spasticità è solo una parte del problema. Cioè nella paralisi cerebrale, in realtà, il bambino con paralisi cerebrale ha tante, questo lo sapete meglio di me, ha tanti aspetti, tante problematiche, anche dal punto di vista semplicemente motorio, non è che c'è la spasticità, fine, devo trattare quello, però tu vedi che abbiamo delle caratteristiche positive, negative e tanti altri aspetti. Ti intendo per caratteristiche positive, non che sono benefiche, diciamo, intendo che c'è un incremento di qualcosa, va in più. Cosa incrementa? Il tono, in genere c'è quindi la spasticità intesa in questo senso, l'iperriflessia, il clono, la co-contrazione, rientrano in quest'anno. Ci sono però delle caratteristiche negative, e dopo ne parliamo, cioè qualcosa che va a essere tolto, va in meno, e poi tanti aspetti fondamentali che sono quelli sensoriali, ad esempio, quelli psicologici, quelli visivi, che vanno comunque a influenzare chiaramente il movimento, di cui non possiamo non prendere in considerazione. Quindi la spasticità è solo un aspetto. Poi l'altra cosa, la spasticità, cos'è? Allora, è un arco riflesso non controllato? Questo è il concetto, no? Che a volte per semplificare si dice questo, cioè praticamente la lesione centrale fa sì che non venga più controllato questo riflesso, no? Che c'è a livello tra midollo e muscoli, spero che sia comprensibile questa cosa. Quindi aumenta il tono del muscolo e questa è la spasticità che dobbiamo combattere. In realtà è molto più complessa di così. Quella che noi chiamiamo spasticità, in realtà ci sono congressi interi che sono stati fatti su questo argomento qua. In questo ambito di tono aumentato ci sono tante problematiche. Per esempio, un bambino instabile, in carico, la prima cosa che fa è aumentare il suo tono muscolare. Per esempio, l'esempio che viene fatto è uno che sta su una, come si chiama, l'equilibrista che sta su una funga, la prima cosa che fa è si indurisce, aumenta il suo tono muscolare, non rimane morbido. Quindi è semplicemente un aumento di tono muscolare legato a un'instabilità meccanica. Bambini che hanno paura, questa è una cosa anche molto difficile da adattare, un bambino piccolo, pieno di paura o di stress, come dice nel terzo punto, la reazione è un aumento del tono muscolare. Un meccanismo di difesa del nostro corpo? Esatto, sì, sì, è una reazione. Bambini che hanno paura del vuoto, paura di cadere, aumentano il tono muscolare, ma questo non è un riflesso alterato, che invece stiamo parlando di qualcos'altro, anche a volte più difficili da trattare, queste paure che i bambini si portano dietro, ma non c'entra con un arco riflesso, quindi è qualcosa di complesso. A volte invece abbiamo tentativi di adattamento, il bambino che aumenta il tono muscolare per semplificare la situazione, perché non riesce a controllare, per esempio tutti insieme non riesce a controllare col suo meccanismo di controllo ginocchio, caviglia e anca, e allora che fa? Parte la spasticità che almeno blocca un'articolazione della caviglia e così deve controllare meno articolazioni, capisci? Quindi come vedi ti sto allargando il campo dove se io penso che devo abbattere questa spasticità, forse non ho capito che c'è dell'altro intorno, capito? Spero sia chiaro, se non ti devo qualcosa di più, fermi. Quindi noi siamo abituati a vedere la spasticità come l'aspetto più evidente, no? E a pensare che debba essere abbattuta questa problematica, però in realtà, ecco, già ti ho fatto capire che c'è qualcosa di più. L'altra cosa di cui ti avevo accennato poi di persona, ci sono degli studi che fanno vedere come la spasticità ha una storia naturale, per esempio, questa è una esperienza comune, i bambini molto piccoli, ecco, tra i 2, i 5, i 6 anni hanno molta spasticità, tanto è vero che noi facciamo molta tossina botulinica in questa fascia d'età, poi, lo sai, lo sapete, la tossina viene a un certo punto, quasi non si fa più, no? Dopo una certa età si riduce molto l'utilizzo della tossina, perché? Perché la spasticità non è più il problema a quel punto, ma cosa vuol dire? Dove è andata questa spasticità? A una storia naturale, ci sono proprio degli studi in Svezia che hanno fatto vedere questa cosa. Quindi anche qui il messaggio non è, evidentemente non è una cosa intrinseca, non è un riflesso che sta lì, no? Il messaggio cronicamente, stabilmente, quindi la taglia e via, no? C'è qualcosa che si altera nella crescita. Quindi il timore, forse il tentativo di trade off, di mediazione, è sempre quello dire fino a quando aspetto a trattare questa spasticità a se stante, per evitare che mi arrivino delle retrazioni, oppure a un certo punto magari lo sviluppo, la crescita faranno il loro corso. Esatto, esatto, in senso negativo o in senso positivo. Il problema è non sapere, avere questo futuro incerto che… Esatto, però ecco, il messaggio adesso non è, come dire, togliamo di mezzo il trattamento della spasticità, il messaggio è di dire, occhio, perché non è quello esclusivamente il problema, il problema è complesso, diciamo un'altra volta, e finché non avremo le idee 100% chiare, bisogna evitare di trattare tutti allo stesso modo, no? Anche quando ne parleremo, quando parliamo delle rizzotomie, eccetera. Quindi cominciamo, cioè finché non ci sono studi seri che ti mettono il paletto e ti dicono un occhio che da qui in avanti fa i danni, no? No, viceversa, secondo me bisogna fare un po' attenzione. L'altra cosa classica che noi vediamo, per esempio, bambini con spasticità, prima della chirurgia ortopedica, in cui tu fai un intervento ortopedico che non tocca la spasticità, che magari dà stabilità meccanica, cioè… oppure semplicemente metti un tutore e il bambino non ha più quella spasticità, no? Ti dà veramente l'idea che non è una cosa lì, non è una cosa fissa, è una cosa che è legata ad altri aspetti, quindi non va di per sé trattata, ma va gestita in un'altra maniera. Questo per quanto riguarda le caratteristiche positive, ma il ruolo si sta spostando adesso, diciamo la visione globale, sulle caratteristiche negative, cioè qualcosa che manca, e questo è evidente, no? Quello che manca è un controllo selettivo, cioè il bambino ha difficoltà a controllare, non so, per esempio il ginocchio, a controllare la caviglia verso l'alto, c'è l'instabilità, la mancanza di equilibrio e la debolezza, sottolineato, perché ora parleremo proprio della debolezza. E' come se questi bambini avessero un sistema di comando on-off, spento o acceso, cioè non ci sia questa modulazione… Sì, è scarsa, è scarsa, è difficile, è difficile anche da migliorare nonostante i trattamenti, in molti casi, no? Però sono tutti aspetti dove, ancora una volta il messaggio è questo, cioè queste cose bisogna lavorarci, cioè inutile che io penso, io faccio la spasticità e chiuso, no? Voglio dire questa cosa qua. Per quanto riguarda la debolezza, da cosa deriva questa debolezza? Innanzitutto che cos'è? È fondamentale, tu pensi al bambini che spesso andando avanti con l'età perdono il cammino, cioè magari ci lottano, ci lottano fino a un certo punto, poi a un certo punto viene più comodo per loro andare in carrozzina, più comodo ovviamente è un brutto termine, però per dire fa meno fatica sedersi che non continuare a combattere contro la fatica di stare in piedi, no? E proprio perché col tempo questa debolezza ha la meglio su tutto il resto, quindi riuscire a combattere questa problematica è secondo me veramente, non so, secondo me la chiave per prolungare le possibilità di cammino dei bambini. La debolezza, senza entrare troppo nel merito, però quello che ti voglio dire che ha diversi cause e alcune, per esempio il bambino non riesce, anche se tu gli dici al lettino, no? Contrai il muscolo, no? Tira sulla gamba, non riesce a controllarla, non vuol dire che non ha la forza ma che non riesce a reclutare il muscolo, no? Nel momento giusto. Poi invece ci può essere un problema proprio del muscolo, cioè il muscolo ha delle alterazioni intrinseche a se stesso per il quale è debole, e qua ne parliamo, e altri punti fondamentali della debolezza è la debolezza meccanica, cioè un muscolo per esempio che è troppo lungo, troppo lungo non è capace di agire al momento giusto, e questo non che ne parliamo, ma per esempio il punto fondamentale è iatrogina, la debolezza iatrogina, cioè quella causata da un nostro tentativo di migliorare le cose, è quello che assolutamente va migliorato, cioè dobbiamo evitare in alcuni casi di creare noi il danno con la chirurgia, con la tossina o con altro, e questo è un punto che secondo me è fondamentale comprendere. Primo punto sono le alterazioni muscolari, cioè quello che si è capito è che la paralisi cerebrale non è solamente un problema di cervello, no, sembra facile dirlo, però non è così, cioè questi bambini hanno delle problematiche già dall'inizio all'interno dei loro muscoli, cioè il loro modo di crescita dei loro muscoli non è solamente secondario al problema neurologico, ma è come se venisse in parallelo, ok? Cioè quindi hanno dei muscoli che sono piccoli, più pieni di tessuto fibroso, più pieni di grasso, se tu guardi al microscopio vedi più grasso all'interno, no? Questo dipende secondo te Emanuele anche dal momento in cui è intervenuta la lesione, quindi anche nella fase di sviluppo… Esatto, probabilmente sì, allora questo è interessante per esempio questa domanda, perché ci sono degli studi che proprio vanno in questa direzione a capire il perché di questa cosa e probabilmente nel momento in cui c'è questa lesione primaria va, sembra che vada a interessare veramente a livello microscopico anche il DNA stesso, infatti l'ho messo in un punto successivo, se tu vai a vedere, si parla di epigenetica, ci sono degli studi che vanno a vedere come il DNA di questi bambini è stato probabilmente alterato, non nel DNA, ma nel modo in cui le particelle di DNA sono aggregate tra di loro, non so se questo è un discorso… Forse è anche un meccanismo di risparmio del nostro corpo, non so, noi fino ad oggi ci siamo sempre preoccupati nei bambini prematuri appunto dello sviluppo di alcuni apparati, penso ai polmoni, tutto quello che si è fatto, però forse nessuno era mai andato a guardare su questi bambini anche l'apparato muscolare? Sì, sicuramente, questo è tutto un territorio in esplorazione, se tu guardi i nuovi lavori sono tutti su questa roba qua, negli ultimi due o tre anni c'è tutti studi ecografici, risonanze eccetera, ma a me quello che mi è interessato molto, io penso che molto del futuro sarà questo qua, anche di vedere la genetica, ci sono alcuni studi che ti fanno vedere che a livello di DNA tu dovresti riuscire a riconoscere anche questa metilazione si chiama, cioè come il DNA è stato modificato in un bambino con paralisi cerebrale rispetto a un bambino che non ha avuto un problema alla nascita e quindi addirittura ipotizzano di poter fare diagnosi precoci attraverso l'analisi del DNA, insomma non è il mio questo, quindi alzo le mani, però quando ho letto quest'articolo recente ho detto che è spettacolare questa cosa, quindi penso che una delle direzioni probabilmente sarà anche questa, insomma. Quindi adesso non entro nel merito, però il concetto è questo, che questi muscoli quindi nella crescita non crescono e diventano rigidi e deboli, non perché c'è la spasticità, ma perché hanno un loro problema intrinseco, hanno anche meno cellule staminali all'interno, cioè hanno delle problematiche intrinseche per i quali questi non vanno avanti e crescono male, quindi queste ruole che io qua ho elencato sono più importanti che la spasticità e quindi anche qui te la sto togliendo un pochettino di mezzo diciamo come centralità, quindi se abbiamo capito che la debolezza è in realtà la centralità secondo me, tutto quello che dobbiamo fare è cercare di mettere in atto strategie per risparmiare la forza muscolare e la funzione muscolare, ok? Ed è in questa direzione che ci stiamo spostando. Questo che succede è che con la crescita queste alterazioni positive, negative e muscolari nel tempo determinano tutto quello che noi vediamo nei bambini più grandi, quindi le alterazioni secondarie, quindi soprattutto l'osso che si deforma, i femori intrarrotati, le lustrazioni d'anca, le lever arm dysfunction, questo qua è un punto importante, adesso ne parliamo, cioè come le leve, lever arm vuol dire braccio di leva, cioè le leve muscolari e le ossa che si deformano e che provocano a loro volta delle alterazioni, però queste alterazioni non c'erano alla nascita, ma si determinano a causa di quello che abbiamo detto prima, capito? Sì. Quindi, ripeto una volta, c'è un cambio di prospettiva in questo momento, cioè incominciamo non a pensare a quello che toglie, cioè che fa abbassare il bambino, ma a cercare di potenziare quello che tira su il bambino, le forze che permettono di stare in piedi, quindi vedi che ci concentriamo su muscoli estensori, l'anca, sul quadricipite e ancora una volta sul tricipite, gastrocnemi e soleo. Quello che ci può aiutare è a sollevarci. Torniamo una volta ancora a come il passo si determina. Guardiamo non solo come le gambe sono meno, le ginocchia, le articolazioni sono posizionate in ogni singolo momento, ma guardiamo quali sono i muscoli che sono attivi in ogni singolo momento. E se noi guardiamo nel momento centrale del passo, mid distance si chiama, ma se tu guardi, il punto fondamentale è quel muscolo che è ingrandito, è il tricipite. La chiave di volta di questi bambini, di tutti noi, persone normali e bambini, è stare in piedi il tricipite, che serve fondamentale per la spinta verso l'alto. Se il tricipite non funziona, automaticamente si va verso il basso. Ma non solo è importante la forza, è importante la leva. Questi sono concetti biomeccanici, però se tu guardi, tu puoi avere sulla sinistra il ragazzo pesante, è più pesante dell'altro, ma se ha un braccio di leva con cui agisce che è corto, alla fine la sua forza sarà inefficace se vuoi. Quindi non è soltanto la sua forza di spinta, ma come la sta facendo funzionare. Quindi pensiamo ancora al tricipite e agli altri muscoli, al tricipite, eccetera, ma alla leva con la quale loro agiscono. Mi viene da chiederti, Emanuele, quindi in questo passaggio che poi adesso ci chiarirei andando avanti, c'è della genetica che favorisce alcuni bambini rispetto ad altri? Se uno è più alto, più basso, più magro, più… Sì, sì, probabilmente sì. Anzi, sicuramente sì. O se uno ha una lassità dei tessuti, proprio per come è fatto. Questo soprattutto, tu metti che hai già una familiarità di tuo per, insomma, un piede di piatto, un'extrarotazione delle gambe, eccetera, quella non è che sparisce con la paralisi cerebrale, no, quella viene incrementata probabilmente, cioè trova un terreno fertile dove una debolezza o un alterato controllo muscolare fa incrementare questi aspetti. Quindi sì, sicuramente questo può spiegare perché alcuni poi vanno anche in peggioramento rispetto ad altri, a parità di altri elementi, no? Sì, sì, sono d'accordo. Questo è difficile da comprendere, però qual è la forza con la quale noi interagiamo continuamente mentre camminiamo? È la forza di reazione al suolo. Semplificando, la facciamo molto semplice, la forza di gravità, no? Come la forza di gravità agisce rispetto alle nostre articolazioni, perché in base a come agisce va a spingere in avanti o indietro le nostre articolazioni. Quindi abbiamo di mezzo tutte queste cose qua, le forze, le leve e la forza di reazione al suolo. Ma il punto fondamentale di cui noi parliamo è questo schema qua, è difficile, deve essere compreso, io chiaramente non sto parlando soltanto ai genitori, sto parlando a fisioterapisti, a ortopedici, a colleghi come me. Questo per noi è l'ABC di quando leggiamo dei lavori scientifici, cioè questo accoppiamento, cioè praticamente come agisce la forza di reazione al suolo, la forza di gravità tra virgolette, rispetto al nostro ginocchio. E questo agisce attraverso un braccio di leva, cioè il braccio di leva, quello che ti dicevo prima, è il nostro piede. Cioè il nostro piede è la leva attraverso la quale noi andiamo a spingerci verso l'alto e a spingerci per star dritti. La semplifico, se tu guardi l'immagine in alto, sopra, al centro, si vede la persona dritta, dritta, no? Col ginocchio dritto. Quando noi stiamo in piedi fermi, no? Sull'attenti, perché stiamo col ginocchio buttato indietro? Stiamo col ginocchio buttato indietro perché in quel momento non facciamo fatica, giusto? Possiamo stare in piedi a lungo senza far fatica. Perché? Perché se il ginocchio è indietro, i muscoli lavorano pochissimo, cioè praticamente stiamo in piedi semplicemente grazie alle nostre legamenti e non facciamo nessuna fatica. Se pieghiamo un po' il ginocchio, incominciamo ad avere il ginocchio un po' piegato, allora si modifica questa forza che ti stavo dicendo qui e automaticamente tu vai a fare fatica. Fai fatica di quadricipiti, fai a fare fatica di tricipiti, eccetera. Questo ti fa capire come basta poco. Le forze sono le stesse, ma se tu cambi la posizione del ginocchio vai a fare molta fatica. Immaginati un bambino che ha un ginocchio piegato come automaticamente sempre più diventa piegato, perché è una posizione che non puoi mantenere a lungo, ok? Quindi è tutto un concetto biomeccanico che spero che si sia capito. Allora, questo è quello che ti dicevo prima, cioè come una disfunzione del braccio di leva va a creare problemi. Cioè se tu, questa è la normalità, cioè la tua spinta del tuo piede agisce bene sul tuo ginocchio e la tua gamba e te la butta indietro e ti fa fare meno fatica e ti fa stare dritto. Nel momento in cui si deformano i piedi, i piedi piatti… O tu non riesci a reclutare tutti i muscoli che ti servono, no? Magari… È più sottile. I muscoli li recluti, ma non agiscono, quindi non è che sei debole. Il muscolo tuo è lo stesso, ma non riesce a fare forza efficace perché la sua forza va in una direzione, il tuo piede va in un'altra, capito? Quindi tu spingi, ma il tuo piede è dall'altro lato, è in fuori. Mentre tu spingi dritto, col quadricipite, no? Con la rotula, tu spingi in un asse, il tuo piede che sia sfiancato o perché piatto o perché di là, no? Non ha più un braccio, non ha una leva comoda e crolla. Non ti dà… Quindi se tu già sei debole col tuo quadricipite e col tuo tricipite, automaticamente se non hai una base solida sulla quale spingere, vai giù. La sensazione che ha il paziente manuale è una sensazione di dolore, di affaticamento, di stanchezza? All'inizio no, ma nel tempo sì, proprio perché cosa si affatica? Per primo il ginocchio, la rotula, no? La prima cosa che succede è che il ginocchio, andando giù, va a fare… Lui che fa come risposta? Siccome non riesce a controllare, la prima cosa non è che va giù, sforza ancora di più il quadricipite, tira ancora di più, tira, 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 nel tempo che succede? Che il quadricipite sfianca la rotula, il tendine rotuleo si allunga, il quadricipite si allunga perché si sfianca, quindi è come una specie di circolo vizioso che si va a creare, che provoca la rotula, proprio la vediamo che si deforma, no? Si allunga, il tendine rotuleo fa uguale e iniziano i dolori alle ginocchia, però nonostante si allunghi, lui che fa regolito ancora di più, e in realtà quello che ti voglio dire è che nonostante… come la puoi trattare questa cosa? Non la puoi trattare quella… cioè, sì, la farai la fisioterapia, cercherai di potenziare, però in realtà tu non è il problema che è debole, il problema è che non c'è il braccio di leva. Non so, Francesca, se… Qua cosa sì, l'altra considerazione, visto che non posso intervenire sul braccio di leva, posso intervenire né tanto sulla debolezza, posso intervenire sul cammino e sul sulla forza che genero rispetto al cammino, alla terra che tocco, cioè un terreno diverso? Sì, no, un primo, no, il primo, diciamo, una cosa semplice da fare, per esempio, è allineare il piede e rimetterlo in asse, per esempio, con un tutore, per esempio. Capito? La cosa più semplice… Perché in quel modo io stresso di meno il ginocchio. Bravo, esatto. E questo, per esempio, ti può consentire banalmente, senza dover ricorrere a chirurgia o chissà che cosa, se quel piede è ancora, come dire, maneggiabile, no? Ancora si può riportare in asse, non è che per forza lo devo operare per rimetterlo dritto. A volte basta un semplice tutore, lo rimetti in asse, il bambino non ha più dolore al ginocchio e cammina, magari c'è avanti degli anni. Hai capito? Però se io… Infatti noi vediamo questi tutori messi già nel primo momento in cui si mettono in piedi i nostri bambini, no? Sì, a volte questa cosa viene vista in maniera negativa. Questo è un esempio che ti ho detto, io non ho detto che tutti devono essere trattati in questo modo, però… Non è standard. I tutori hanno mille funzioni, no? Mille utilità e mille limiti anche, chiaramente, quindi a volte vengono visti in modo negativo. Però tra le funzionalità, per esempio, c'è questa qua. Tra le funzionalità, cioè dare una base di appoggio solida sulla quale il bambino, magari crescendo lui sviluppa altre potenzialità e supererà questa fase e non avrà più bisogno del tutore, capito? Quindi però se io non riconosco che il problema è un braccio di leva, il problema è di braccio di leva, ad esempio, stiamo nello specifico, tutore non vuol dire niente di per sé, tutore, cioè è una cosa molto generica, no? Che tutore devo andare a mettere? Se io metto, insomma, un plantare semplice, basso, così, e il piede mi rimane in fuori, non ho cambiato niente. A volte io vedo dei bambini con dei tutori, sto facendo dei discorsi generici, però per dire semplicemente che se il tutore non riallinea, se il tutore viene fatto male, perché può essere costruito male, e non riallinea questa cosa perché non l'è stata riconosciuta, non serve a niente. Quindi non è il tutore che fa male, è il tutore che è fatto male. Sì, qui poi si inserisce un discorso che è molto complesso dal punto di vista del genitore, valutare le competenze di chi ti propone un'ortesi piuttosto che un'altra, ma perché in questa equip di cui parlavamo prima, spesso è il tecnico ortopedico che non è d'accordo col fisioterapista, che non è d'accordo col fisiatra, che non è d'accordo con l'ortopedico in cui si innesca un meccanismo che tu stai in mezzo e dici, ma io che posso fare? Cioè, quale sarà la decisione giusta? Quindi assolutamente benvengano queste conversazioni per fare chiarezza e appunto specificando che stiamo parlando di esempi e non di casi standard. Però è abbastanza comune nella pratica clinica, è abbastanza comune. È chiaro che poi l'equipe sarebbe importante che tutti la pensassero nella stessa maniera, altrimenti si crea soltanto confusione per i genitori. Esatto. Questo è lo stesso discorso, adesso anche il piede piatto funziona in questo modo, cioè il piede piatto di per sé, visto che la domanda c'era, non è un problema di per sé, cioè il piede piatto non è che devi operare perché ha il piede piatto o fare che... cioè il problema di piatto diventa un limite nel momento in cui va a togliere il braccio di leva alla spinta del bambino. Cioè nel momento in cui il piede si sfianca, le spinte normalmente quando tu fai il passo che fai, vai sulla punta spingendo dalla punta e no? E quindi la leva è la lunghezza del tuo piede. Se il piede cede in mezzo, si sfianca, diventa piatto, tu non spingi più dalla punta, tu spingi dal centro del piede, quindi hai perso tutta quella leva che ti farebbe spingere in avanti. Quindi quello incomincia a diventare un problema da dover gestire, capito? Quindi è sempre un discorso non di piede piatto di per sé, ma di potenza che tu riesci a creare con il tuo scheletro. Quindi i concetti fondamentali che ho aggiunto sono la forza da mantenere e le leve da controllare e mantenere. Però non mi hai risposto prima, chi è più avvantaggiato dal punto di vista genetico? Chi è longilineo? Chi è più alto? Chi è più basso? Penso che alla fine sia quello basso sicuramente. Nel senso che il problema è che andando crescendo molto succede che le leve scheletriche, le ossa crescono molto e i muscoli rimangono molto indietro. Spesso succede questo. I muscoli hanno questa difficoltà ad allungarsi con la crescita e quindi diventando molto lunghe le ossa i muscoli relativamente sono corti e quindi si ritraggono e creano problematiche. Quindi un altro timore delle mamme sono questi scatti di crescita molto repentini, che alla fine non possiamo controllare, che però fanno parte anche quelli forse della genetica. In quei momenti sicuramente c'è più rischio che la situazione possa in qualche modo peggiorare. Ok, questa era l'introduzione generale, spero non è stata troppo complessa, ma per capire, ma penso già si sia capito dove stiamo andando con la chirurgia, ma anche con i tutori, le direzioni, ma un po' con tutto. Perché adesso introduco il discorso della tossina botulinica per esempio, se vuoi vado avanti. Vai, 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 assolutamente. Cioè io aggiornamento, adesso io non entro troppo nel merito, però la tossina botulinica che cos'è? Questo credo lo sappiano tutti, però stiamo parlando di come gestire la spasticità. La spasticità può essere gestita in diversi modi, qua sono divisi su questo schema classico in modalità generali, focali, reversibili o irreversibili, e qui ci sono tutte le varie possibilità che abbiamo. Il botulino si localizza in questa fase qua, cioè è reversibile, quindi una volta somministrato, poi dopo qualche tempo non esiste più, non agisce più, ed è focale perché viene iniettato, inoculato direttamente nei muscoli. Dici due parole anche sul resto, l'altro sono chirurgia, intervento in rizzotomia dorsale sedentivo, l'altro che cos'è? La pompa al baclofen? Questa è la pompa al baclofen, sì. La pompa al baclofen è la terapia orale per bocca che chiaramente sono generali perché agiscono su tutto l'organismo, ma sono reversibili perché insomma se smetti di dare il lioresal per esempio, oppure se smetti di utilizzare la pompa al baclofen, teoricamente sono reversibili, mentre l'arizotomia è sempre generale ma è permanente, una volta fatta non torna indietro, capito? La chirurgia invece, tutta la chirurgia, per esempio le neurotomie, ne avete parlato con la dottoressa Leclerc, le neurotomie, andare selettivamente a tagliare i nervi perifericamente per il singolo muscolo, è permanente. Quindi questa è la visione tradizionale del botulino, cioè tu fai la tossina botulinica su questo muscolo spastico, qui viene identificato come una molla, dopo la tossina il muscolo riduce la sua spasticità, dopo sei mesi il muscolo recupera, cioè ritorna come prima, ha un recupero completo e ritorna spastico. Questa è la visione tradizionale, però anche qui come ti dicevo prima il dubbio è, è veramente reversibile questa cosa? Allora quindi sono in questi ultimi anni che vengono fuori molti lavori che vanno a studiare se questo è veramente il comportamento che noi ci aspettavamo oppure no. E questa è per esempio una review recente fatta da un grosso gruppo australiano nel 2019 dove incomincia a fare, non incomincia, addirittura tira le somme di tutti i lavori scientifici e fa una grossa critica alla visione che avevamo della tossina botulinica nella paralisi cerebrale nei bambini. La visione attuale ti fa vedere che è questa qua, cioè l'effetto primario della tossina in realtà non è la spasticità, ma è creare un'atrofia muscolare, una debolezza. Quindi tu crei una debolezza in cui secondariamente c'è anche una riduzione della spasticità, ma primariamente sta creando atrofia muscolare e debolezza. Quindi macroscopicamente tu vedi che appoggia il piede, però microscopicamente in realtà hai creato atrofia muscolare e a 12 mesi ti fanno vedere che in realtà non ha recuperato completamente, ma il muscolo può aver subito dei danni. E quindi vengono fuori dei lavori che mettono risalto su questa cosa, cioè la possibilità che la tossina botulinica in realtà non sia a costo zero completamente, ma possa creare delle infiltrazioni di grasso, di tessuto fibroso nel muscolo. Su questo ti dico dall'altra parte qual è invece la narrazione corrente, lato genitore, facciamo la tossina, un inoculo, ormai si fa anche a livello ambulatoriale, senza particolari anestesie o altro sui bambini un po' più grandi. Poi aumentiamo il periodo di fisioterapia, quindi facciamo trattamenti di fisioterapia intensiva uno ogni giorno per sei mesi e così facendo poi questo muscolo atrofizzato è come se si fosse riabituato, si fosse adattato e quindi non tornasse più con il piede in punta. Sfataci tu questo mito perché poi è correlato anche a una serie di inefficienze del sistema sanitario nazionale, in cui non è che perché tu fai tossina da domani ti cambio il ciclo di riabilitazione e ti faccio venire tutti i giorni, poi si scontra con una realtà diversa. Sì, sì, è un discorso molto variegato, diciamo che bisogna guardare un pochettino i vari aspetti, cioè credo che non bisogna come dire buttare tutto quanto via, bisogna veramente comprendere che l'indicazione alla tossina deve essere un aspetto mirato, focalizzato, di breve durata, per la minordose possibile, cioè se hai un focus, un obiettivo preciso, ok, mirato, allora parliamone, ok? Però ha senso in quei sei mesi lavorare in maniera intensiva per cambiare un comportamento, un tipo di… Sì, credo che possa avere un senso, sì, possa avere un senso in questa cosa qua. Chiaramente non è lavoro sulla tossina, se penso che quel muscolo ipertonico possa avere, possa lui creare un limite e penso che questa cosa possa in qualche modo determinare un cambiamento positivo, allora ha un senso. Ok. Se questa cosa deve essere vista come, lo dico dopo, però deve essere vista come, adesso faccio la tossina, faccio questo tagliando, tra viricolette, faccio il lavoro, eccetera, eccetera, di stretching dalla mattina alla sera, tra sei mesi la rifaccio, tra sei mesi la rifaccio, tra sei mesi la rifaccio, non abbiamo capito niente, cioè nel lungo termine andiamo a creare danni e basta, capito? Vero. Penso, sì, penso che abbia… La tossina è un buon farmaco, non sto dicendo questo, però bisogna conoscere i limiti, quindi anche se un bambino diplegico, per esempio, il diplegico noi sappiamo che è diverso dall'emiparesi, no? È una cosa completamente diversa. Se guardo in prospettiva, un bambino che cammina sulle punte diplegico, io di cosa ho paura? Che questo bambino smetterà di camminare, diventerà debole e smetterà di camminare. Se io metto in atto tossina go-go, no? Inoculazione sui gemelli, e che ho parlato dei gemelli prima, il muscolo fondamentale per stare in piedi, io incomincio a riempirlo di tossina botulinica perché il bambino sta in punta, e qual è l'effetto finale? Questa è la carrozzina, è inevitabile perché vado a creare debolezza sull'unico muscolo che è fondamentale per stare in piedi, ok? Cosa è peggio? Adesso lo dico dopo, ma cos'è peggio? Un bambino in punta o un bambino che non cammina più? Eh, un bambino che non cammina più, quindi è diversa invece le emiparesi. Le emiparesi io ho più margine, un bambino cammina presto, camminano sempre praticamente, quindi ho più margine di lavoro, e tanto è vero che se tu vai a vedere questa review, quando sfoltiscono e ti dicono quando farla, quando non farla, sfoltisci, sfoltisci, alla fine praticamente rimane, rimane per il bambino di ambulante soprattutto, e questa è la curva, il bambino tra i due e i sei anni con un emiparesi, a stringere, detta molto volgarmente. Mentre il bambino… Vediamo questa cosa della classificazione, Emanuele, dal grado 1-3, così almeno siamo chiari anche. Allora, questa GMFCS è una classificazione che in soldoni ti dice, diciamo, le capacità di diambulazione, di mobilità dei bambini, no? Dal bambino grado 1 è il bambino capace di muoversi autonomamente senza bisogno di sostegni, ma andando avanti dalla 1 alla 5 abbiamo bambini che hanno bisogno di bastoni, poi di diambulatore, fino ad arrivare ai gradi 4 e 5 dove praticamente il bambino è in carrozzina e diciamo è dipendente negli spostamenti dal caregiver, dal genitore diciamo, capito? Quindi è una classificazione diciamo di gravità del potenziale motorio, riferito alla diambulazione chiaramente. Quindi se noi guardiamo grossolanamente dal grado 1 al grado 3, parliamo di bambini, di ambulanti, noi mettiamo sul piatto della bilancia quelli che possono essere i rischi a sinistra, i rischi legati alla tossina botulinica che sono quelli che abbiamo detto, cioè di creare tebolezza e atrofia, ma dall'altro lato mettiamo i benefici di dire io per un periodo miglioro il ROM, miglioro la rigidità, lo faccio migliorare nel cammino, magari associando a un ciclo di terapia o a sport eccetera riesco a migliorare, a superare un gradino della sua difficoltà e so che comunque non è una cosa a lungo termine, è una cosa di breve durata e ho un end point davanti c'è che può essere comunque di fare della chirurgia per diciamo cambiare la situazione. Allora con questi limiti allora si dice ok, può essere accettato, però come tu vedi nelle curve sotto, questa è la classica esperienza che noi abbiamo, cioè il bambino fa molta tossina nella curva a sinistra, tra i 2 e i 6 anni, sappiamo che dopo è inefficace, dopo si instaurano delle contratture e delle tossioni osse per le quali è inutile che io continuo ad andare di tossina a oltranza fino ai 14-15 anni, perché ancora una volta non ho compreso evidentemente a fondo quello che sta succedendo, almeno questa è la mia impressione, per esempio mi è capitato due giorni fa un bambino di, avrà avuto 12-13 anni, con un ginocchio flesso e la proposta era di fare della tossina sui flessori del ginocchio per vedere che succedeva, però questo è un bambino con un ginocchio flesso a 12-13 anni, dove si sono instaurate delle contratture articolari, delle rigidità, il quadricipite, la rotula alto, cioè ci sono delle complessità ormai che si sono instaurate, dove fare una tossina su ischi currali è veramente una cosa che la puoi fare con uno scopo mirato, cioè andare a capire, a prevedere che cosa può darti la chirurgia, ma solo in funzione di non pensando o illudendo, perché la famiglia era convinta che questo potesse cambiare la sua storia naturale, che la cosa potesse cambiare, ok? Sì, forse c'è questa sensazione che il botulino sia un po', a parte che l'hai fatto vedere tu prima, era chiara quella matrice di prima dove gli interventi sono veramente quattro incroci in questo settore qua, quindi non c'è tanto da spaziare su soluzioni alternative, però è come se il botulino poi alla fine, alla fin fine fosse il male minore, ti dà quella sensazione di… Sì, io ci provo, uno dice io ci provo e vediamo che succede, sì, non è… Sì, è un po' fatalista direi nel 2022 ancora. Sì, sì, questo è un senso altro. Forse è ancora peggio questa slide, cioè nel senso che loro arrivano a dire che nei bambini gravi, cioè i bambini in carrozzina fondamentalmente o che non camminano, addirittura arrivano a dire che i rischi sono superiori ai benefici, cioè arrivano a dire che nei bambini sono stati descritti anche eventi avversi, quindi a livello di respirazione, di aspirazione e così, per i quali loro sconsigliano di fare della tossina botulinica. Questo è un messaggio forte che è stato contrastato poi da altri colleghi che hanno risposto a questa review, però diciamo che il messaggio secondo me da prendere è che anche in questi pazienti può essere effettuata la tossina botulinica, ma ancora una volta non può essere effettuata a oltranza, cioè tu che cosa fai? Fai tossina negli adduttori ogni sei mesi per tutta la vita? Non può essere questa la soluzione, a meno che non c'è un obiettivo molto preciso a livello antalgico, un bambino che non è operabile, ecco, in questi casi non hai altre strade, allora per il comfort cerchi questa soluzione, però in linea di massima anche qui si stringe veramente il ruolo della tossina. Diciamo anche però Manuele che appunto chiamandosi tossina botulinica già all'inizio alcuni genitori hanno una presa di posizione per cui dicono no, no, io non voglio mai fare, voglio mai mettere dentro mio figlio una sostanza tossica, no? No, 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 questo no. Ecco, questo possiamo fugarlo, questo dubbio. No, 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 questo sì, anche a me è capitato, si deve avere genitori che ci sono tossini. Da quanti anni? Lo dicevamo forse anche in intervista con Ferrari, credo che saranno una sessantina d'anni? Non lo so, in stanza. Per cui? No, no, sicuramente diciamo dal punto di vista generale si è visto che è relativamente sicuro, a parte casi specifici, cioè per esempio, ecco, cose più pericolose può andare a fare inoculazione in territori prossimali, quindi in bambini gravi, lì si è visto che ci possono essere delle problematiche, altrimenti no, è relativamente sicuro come farmaco, ma il fatto di chiamarlo tossina non è, no, questo deve essere sicuramente fugato, no, questo non è un problema. Però ti dico, con indicazioni precise, eccetera, è un buon farmaco, quindi si utilizza, si utilizza regolarmente, non voglio dire che io non lo utilizzo, a volte sono io stesso da chirurgico ortopedico a dire, mando a chi fa la tossina, questo deve essere sempre come me anche il ruolo, no, dell'ortopedico, a volte di dire, di riconoscere, ma nel momento di fare una tossina, inviarlo a chi se ne occupa. L'altra cosa, per esempio, l'ho messo in questo punto qua, non ne parleremo troppo, però la tossina si è visto che, per esempio, non funziona per migliorare le lussazioni di anca, questo è un altro punto importante, capita a volte, bambini che arrivano con anca lussate o sublussate, nel capitato un altro giorno, uno in Francia, ha un anca con radiografia lussata, e il collega francese ha scritto tossina e radiografia dopo due settimane, come dire, magia, e tra due settimane si è risolta la lussazione, ci sono lavori anche randomizzati, doppio cieco, eccetera, dove si è visto che anche la tossina associata ai tutori, ai tutori in apertura, non è nessun'efficacia. Manuele, sentiamo un po' di gracchiare di un microfono, non so se hai cambiato qualcosa, però. Forse mi sono mosso un po' io nella concitazione del dialogo, ora non lo senti più? Vai, perfetto. Forse ero io. Quindi ho messo dei semafori gialli a questa cosa, per me è importante, non mi piace, francamente, quei colleghi che fanno solo tossina, magari sono specialisti, sappiamo che se tu lo mandi lì, loro faranno tossina, oppure fanno tossina e poi fanno uscire il paziente dall'ambulatorio, dicono, torna tra quattro mesi che la rifacciamo, no, non mi piace, evidentemente, ripeto, c'è qualcosa che non è stato compreso nel meccanismo patologico su cui stiamo agendo, semaforo giallo. E ho messo un semaforo giallo, purtroppo lo devo mettere anche qua, e questo è un messaggio che secondo me va dato alle famiglie, dice tossina non si fa, quindi cerco alternative, però in questo momento ci sono studi che si stanno facendo, ma non c'è sicurezza su altre metodiche alternative, mi sto riferendo qui alle vibrazioni fondamentalmente, vibrazioni focali, diciamo una speranza che molti hanno di fare questi cicli che a volte sono anche costosi, però se tu vai a rivedere la letteratura viene utilizzata per altre patologie, sì, l'adulto sì, ma nella paralisi cerebrale ci sono delle review anche di quest'anno dove non ci sono evidenze che questa cosa possa dare un beneficio. Quindi ripetiamolo, abbiamo toccato questo argomento anche in altre conversazioni sempre con esperti, la vibrazione focale soprattutto su sistemi commerciali al momento, perché quasi nessuno la utilizza poi all'interno del sistema sanitario, non è un tipo di trattamento che porta ai risultati evidenti, quindi come lo stesso risultato dicevamo con Ferrari in qualche intervista fa di fare un massaggio, ecco, ti fa piacere, ti dà sollievo momentaneo, ma sicuramente non interviene. Esatto, un rilasciamento di breve durata, ma sul quale poi non ti ha cambiato molto, poi interviene lo suo schema di tono sbagliato, di tono alterato, sì. Questo è qua, tra l'altro, io poi sono curioso, quindi vado un pochettino a girovagare anche sul web per vedere un po' le informazioni che arrivano, perché poi sono le stesse che arrivano ai genitori, allora ti ritrovi sul sito pubblicitario e tu vai a vedere un po' su quali, perché se uno è serio poi mette la bibliografia, eccetera, però tu vai a vedere la bibliografia, lì c'è lavori scientifici, un caso non descritto di bambino che va in equino, un caso, cioè il nulla, cioè quindi parliamo del nulla, capisci? Quindi poi magari usciranno mille review che diranno che è efficace, però… Le seguiremo, noi continueremo a seguire. Esatto, in questo momento non c'è nulla, insomma. Bene, soluzioniamo questa cosa, andiamo avanti? Andiamo avanti, siamo abbastanza avanti con il tempo, ma perché ti ho rallentato, io, però finché puoi andiamo avanti che per noi è interessante. Perfetto, allora andiamo diciamo al succo della questione, nel senso quali sono gli interventi che si fanno in questo momento che sono consigliabili e quelli che in realtà hanno lasciato un po' il passo, diciamo adesso non si fanno più. Ho usato i semafori per cercare di farlo più facile possibile. Questo, se siete riusciti a non addormentarvi in quello che ho detto e che ho seguito fino adesso, quello che si faceva, questo è quello che si faceva quando io ho iniziato a occuparmi di questo, cioè seguivo diciamo uno dei primi chirurghi italiani che faceva questa chirurgia nei bambini spastici, il professor Poccianti, quello che si faceva era fare la triplice tenotomia, cioè si andava ad allungare i muscoli, il opsoas, il flessore del ginocchio e il tricipite. I bambini che vedevamo flessi piegati su loro stessi, tre allungamenti tendini, per stenderli, perché ti viene da pensare, tolgo le tensioni, però se abbiamo seguito tutto il discorso, e li rimetto in asse, se abbiamo seguito quello che ho detto fino adesso, che abbiamo questo semaforo rosso, questi interventi hanno solo purtroppo dato un'impressione immediata, perché tu il bambino lo vedi steso, tu chiaramente togli le tensioni, lo vedi dritto, dici benissimo, questo è un casino, cioè è un disastro dopo, ma ha solo creato, ma questa è una cosa che sappiamo ormai da 20 anni, quindi perché lo sto dicendo? Perché non è come lo allungo quel muscolo, ma se lo allungo, se io vado e allungo quel muscolo, la conserva, quindi allora lo posso fare con un'incisione di 10 centimetri, lo posso fare per moto per cutaneo, e qui mi sto riferendo ad altre tecniche che sappiamo che stanno andando per la maggiore, l'effetto è lo stesso, se io vado lì e allungo anche con un micro bisturi quei muscoli, vado a creare debolezza, debolezza e peggioramento, noi abbiamo detto che invece stiamo ragionando al contrario, non vogliamo togliere, ma dobbiamo aggiungere, risparmiare i muscoli potenziali, ok? Si capisce, no? Ha un senso, diciamo. Andiamo ad analizzare, torniamo a questa immagine, è un bambino con il ginocchio flesso sulla sinistra, bambino ginocchio flesso, anca flessa, piede equino in punta, ragioniamo su interventi più frequenti, interventi per il piede equino, che è la tomba dell'ortopedico, diciamo noi, perché è un intervento facile da fare ed è quello che fa più danni, quindi la cosa più facile è dove si va a imbarcare negli errori. A sinistra abbiamo un bambino in equino, come capiamo? Potrebbe essere un bambino emiplegico questo? Se lo guardiamo di lato sì, se l'altra gamba è appoggiata bene, diciamo più facilmente di plegico, diciamo se tutte e due sono in punta, di plegico, se uno soltanto probabilmente è un emiplegico, no? Però, che succede? È in punta, gli allunghi il tricipite, dopo che fai a destra, dici guarda, appoggi il tallone, perché è la cosa più visibile, no? All'occhio inesperto, e il tallone è appoggiato, wow, no? Intervento riuscito. Questo si chiama crouch, crouch vuol dire accovacciato, vuol dire, quindi è un bambino che, vedi, non si spinge verso l'alto, quindi sta subendo la forza di gravità. Questo è un danno, questo è peggiorato, non è migliorato, quindi se il genitore dice, ah, ha fatto un intervento per cutaneo, guarda, adesso appoggia finalmente, era anni che non appoggiava, ora appoggia. No, questo nel tempo va in carbozzina, capito? È veramente il male, per noi crouch uguale, male, ok? È veramente l'anticamera della perdita del cammino. Allora, quali sono gli interventi che si fanno? Per allungare, correggere il pedequino, si va ad allungare il tricipite. Il tricipite, come ti ho detto, è fondamentale, quindi sì, lo tocchiamo solamente se è fondamentale, se è indispensabile, se non abbiamo alternative, se dobbiamo proprio farlo più avanti possibile con la crescita e come? Con tecniche che cercano di risparmiarlo, quindi le tecniche possibili, le avete sentite nei vari ambulatori, no? C'è l'allungamento intramuscolare, c'è l'allungamento da Strayer, Vulpius, i gemelli, per cutaneo, l'allungamento a Z, no? Francesca, credo che queste cose si sentano, no? Sì, le sento, ma mi risuonano così, però non mi dicono molto, ecco, quando mi dice il problema è i gemelli, dico, ma sì, sai, gli credi, nel senso che poi… No, i gemelli sono quelli che si vedono in alto, quei due muscoli che stanno lassù, sono una parte del tricipite, no? Perché sono tre, sono i gemelli, due e il soleo. Allora, noi possiamo toccarle tutte e tre insieme, che è il tendine d'Achille, no? Perché i tre muscoli si uniscono in basso nella corda bianca, che si vede bianca, che è il tendine d'Achille. Allora, li puoi toccare tutte e tre insieme, oppure un po' più su, quindi l'immagine sulla sinistra, toccandone uno soltanto, risparmiando l'altro, o allungandoli con delle tecniche che fanno ristendere il muscolo senza interromperlo completamente, no? Quindi, in qualche modo, se tu lo tocchi in alto, lo risparmi un po' come forza muscolare, se lo tocchi in basso, lo indebolisci, capisci? Ok. Quindi, per questo si è, negli ultimi anni, gli allungamenti a Z del tendine d'Achille, si cerca di evitarli, cioè gli allungamenti, quelli che sono segnati sulla destra, cioè la zona 3, sono gli allungamenti fatti qui, o per via percutanea, con questi microtaglietti, o a Z, cioè allungandolo e poi suturandolo, sono interventi che fanno indebolire, che sono molto efficaci, perché allungano molto, ma indeboliscono il tricipite. Se fai invece interventi più su, questi e questi, allunghi meno, ma risparmi la forza. Ok? Quindi, di conseguenza, questa è una consensus internazionale, dei nomi più forti che ci sono in giro, se guardi sulla sinistra, che conosce l'ambiente, sono i nomi più forti nell'ambiente internazionale, ti dicono proprio questo consensus, cioè cerchiamo di evitare interventi in questa zona, zona 3, quindi allungamenti a Z, allungamenti percutani, specialmente nei diplegici, cioè i bambini che dicevamo prima, perché sono deboli, sono destinati in qualche modo a peggiorare come debolezza, quindi se noi andiamo a metterci il nostro, facciamo un danno di atrogeno, è un messaggio fondamentale questo qua, quindi facciamo… Tu prima ci hai presentato, Manuele, uno studio sui bambini australiani, in generale qual è il paese che ti sembra più avanti, non tanto dal punto di vista pubblicazione, perché poi sappiamo che l'Australia ad esempio pubblica su tutto, sui nostri bambini, quindi… però dal punto di vista di competenze, per cui Europa, Stati Uniti… Sì, guarda, i grossi gruppi sono sì, dai Stati Uniti ovviamente, l'Australia, la Svezia, la Svezia non tanto dal punto di vista chirurgico, ma perché riescono a fare delle statistiche clamorose, perché riescono a controllare moltissimo i loro utenti e quindi riescono a fare degli studi di sopravvivenza di anche 20 anni, 30 anni, ti sanno dire moltissimo. E qua in Europa, il grosso nome, il collega con cui collaboro io, Brunner, a Basilea, il grosso centro sulle paralisi cerebrali, sono questi che la vanno da maggiore, quindi le pubblicazioni sono fondamentalmente al loro nome. Questi nomi, ok. Ancora, spero che non sia noioso, però siccome arriva spesso il paziente che arriva in ambulatorio diceva, mi ha detto che devo fare l'intervento sui flessori del ginocchio, ischio crurale si chiamano, con questo brutto nome, sono questi muscoli dietro, questa corda B, che si attaccano dal bacino alla gamba, questa corda che tiene, se vuoi, piegato il ginocchio. Allora, stessa cosa, a livello intuitivo ti viene da dire sì c'è una corda, l'allungo, la devo allungare, quindi taglio qua. Qual è l'effetto? In realtà, si capisce, hanno un doppio effetto, agiscono sia sull'anca che sul ginocchio, però qui piegano il ginocchio, se tu tiri qua no, ti viene da piegare il ginocchio. In realtà qui hanno un'azione diversa, cioè che fanno? Se tirano, tirano indietro il bacino, quindi che fanno? Estendono l'anca, raddrizzano l'anca. Quindi sotto hanno un effetto negativo, ma in alto hanno un effetto positivo, cioè di raddrizzarti. Allora che succede? Che se tu li vai ad allungare, da un lato sì, togli l'effetto negativo qua e non ti piega il ginocchio, ma in alto togli questo effetto qua. Quindi in realtà la conseguenza è che non ti raddrizza più l'anca, ma l'anca si piega in avanti. Quindi l'effetto finale è quasi peggio, si piega su se stesso ancora di più. Quindi anche qui, grosso freno, se tu guardi le pubblicazioni e ti dicono che gli eschi crurali non si toccano più, no, e quindi perché rischi di avere anche qui danni. Ti faccio vedere come interventi che fino a pochi anni fa, ma ancora adesso, chi non è aggiornato, fa regolarmente perché vede un ginocchio piegato a lungo i flessori del ginocchio. Quindi occhio ancora una volta, interventi che in modo intuitivo sembrano facili. A livello pratico creano danni. L'iliopsos è l'altro muscolo che pure si sente molto in ambulatorio, è questo muscolo che si attacca dalla schiena, dal bacino all'anca, all'alfemore. E che cosa fa? Flette l'anca, no? Quindi, diciamo, il lato negativo qual è? Che se è corto, tu dici, lo allungo così l'anca è più dritta, no? È più estesa. In realtà questo muscolo è un muscolo fondamentale per avanzare. Quando noi abbiamo visto la nostra curva, sappiamo che quando tu vuoi fare il passo, se vuoi portare avanti la gamba, da dietro in avanti, questo muscolo è fondamentale. Quindi se tu vai a toccare questo muscolo e indebolirlo, ancora una volta l'effetto finale è negativo. Quindi ti ho tolto il terzo muscolo di cui parlavamo prima, ho detto anche questo, occhio, occhio a toccarlo. Lo tocchiamo proprio se siamo, come dire, costretti a farlo perché c'è una contrattura di tipo invincibile, clamorosa, altrimenti, tra l'altro ci sono degli studi, questo è veramente di il professor Brunner che citavo prima, ti fa vedere come è un in realtà l'anca non deve essere toccata in questi casi, ma se tu migliori il ginocchio e la caviglia, automaticamente migliora l'anca. Quindi anche qui abbiamo tolto molta chirurgia che viene fatta perché è inutile o dannosa. È chiaro Francesca? È chiaro, sì, no, mi intriga questo meccanismo di equilibrio perfetto del nostro corpo che se sposti una leva c'è poi un riflesso su... È vero, è purtroppo è così, ma guarda che la conclusione di questo ragionamento è che molti di noi ormai si sono spostati da lavorare sui muscoli a lavorare sulle ossa, perché sembra il contrario, il genitore spaventa, ma in realtà è più prevedibile l'effetto che tu hai modificando gli assi, le leve, che non l'effetto che tu hai modificando i muscoli, per cui toccare i muscoli lo fai se veramente, non dico che sei costretto, però hai studiato a fondo, no, anche con dei modelli biomeccanici, eccetera, quello che succede, altrimenti rischi che spostandone uno fai più danni che non vantaggi. E l'altra cosa che mi porto a casa è che in questo settore l'intuizione conta veramente poco, perché cose che così ad occhio diresti, come dire, per stare dritto è meglio che rimetto in asse questa parte, invece no. Cioè, quindi, tanto più il livello della competenza e della verticalizzazione anche delle competenze, l'essere specialisti di quello. Sì, sì, ma infatti a me fa paura quando mi raccontano visiti, no, in cinque minuti, boom, 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 allunga questo, decidi, o mettendo delle dita, no, quello che si sente anche, mettono le dita, sentono le tensioni muscolari, allungherò qua 22 muscoli, qua 15 muscoli, cioè, questo mi sembra che assomigli più alla magia, no, perché si dice, no, questo fare anche, no, esterofilo, dice, ah, sentito, ma che cosa senti? Cioè, no, è visto com'è complesso il meccanismo, cioè, non è una cosa di magia o di tensione. Ok, che bevi a occhio nudo, no? Dicevamo anche prima l'importanza degli esami strumentali, quindi… Sì, 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 è così, purtroppo. Questo altro concetto rispetto a prima, mentre prima si diceva, ok, devo allungare i muscoli dietro, bisogna ragionare anche quello che succede davanti. Se tu stai così per anni piegato, che succede? L'abbiamo già detto, si elonga, no, si diventa molle, no, troppo lungo il quadricipite. Quindi, allora, più che allungare il muscolo che sta dietro, che devo fare? Devo rimettere in tensione il quadricipite, lo devo accorciare perché è troppo lungo, non è efficace. E quindi sono usciti fuori… Ecco, questa è per esempio una curva, adesso non entro nel merito, però non è questione di allungare i muscoli, quindi non è… Ma di metterli alla tensione giusta, il problema del muscolo può essere che è troppo corto, ma anche che è troppo lungo, no? Si è capito che la tensione… Quindi non è l'obiettivo allungare i muscoli, perché gli interventi, no? Inutile dirlo, parlo della fibrotomia, allungo i muscoli, allungo tutti i muscoli che vedo. E questo non è così che funziona, cioè devo mettere le tensioni giuste, cioè non è che più è lungo e meglio è, no? Più è lungo e peggio è. Non ho esagerato, però il concetto è chiaro. Quindi questo è un intervento che si fa molto nei bambini che si flettono, non nei bambini piccolini, ma nei bambini più grandi, un bambino che è così flesso per anni o che è in crouch, cioè come ho fatto vedere prima, molto accovacciato, quello che si fa è si tensiona, cioè si accorcia il tendine rotulio, proprio per accorciare proprio l'apparato estensore, quindi il quadricipite, la rotola, si rimette in tensione, di solito si associa a un intervento sul femore per raddrizzare il ginocchio, in modo che il ginocchio è dritto, il quadricipite è bello teso ed è in grado di gestire bene la forza muscolare che dicevamo prima, no? Di lavorare con meno fatica possibile perché è dritto. L'intervento però sulle ossa rispetto all'intervento sui muscoli è un intervento più complesso in termini di effetti su altri apparati o su nostri bambini che magari possono avere altre comorbidità, quindi è un intervento anche di recupero più lungo? È un intervento più impegnativo, sì, sicuramente, è più lungo, a livello di riabilitazione ha bisogno della sua riabilitazione, tanto è vero che non è che si fa a chiunque, cioè non è che il primo che arriva col ginocchio piegato e bom, gli facciamo o no l'intervento di ostotomia, sono interventi che vengono fatti dopo che tu per tempo hai guardato il paziente, hai visto come sta andando, vedi il peggioramento, nonostante questo non migliora e lo fa rientrare in genere nell'ambito di un pacchetto, tra virgolette, di chirurgia, cioè vedo che ci sono diverse problematiche e in un colpo solo cerco di gestirle un po' tutte quante insieme, quindi sì, faccio fare il sacrificio al bambino, ma perché lo voglio riassettare bene e farlo salire di livello rispetto a quello che sta perdendo. Ok, chiaro. Per esempio, questi sono interventi che quando ho iniziato io a fare chirurgia di questo tipo andavano molto, un bambino che buttava il piede indentro, per esempio ruotava all'interno, si pensava allora basta che io allungo i muscoli interni, allungo un po' i flessori interni, gli adduttori e lui ruoterà di più verso l'esterno, invece come ti ho detto questa cosa no, non va bene, addirittura vado a indebolire dei muscoli importanti e non ho l'effetto che volevo, quindi se c'è un discorso di rotazioni, il bambino che ruota molto le punte in dentro tanto da inciampare o al contrario, molto i piedi in fuori, tanto da perdere la sua efficacia, la cosa più facile è ruotare le sue ossa, per questo torno al punto di prima, per noi non è un intervento complesso, chiaramente ha un impatto sul bambino nel senso che dovrà fare recupero eccetera eccetera, però noi siamo abituati a fare intervento sull'osso e l'effetto è immediato, la gamba storta diventa dritta, c'è sempre un margine di come questo avrà un impatto su di lui, è chiaro che non è a matematica, però ha un impatto più prevedibile rispetto a dire io allungo un flessore mediale e allora lui andrà verso l'esterno, no, non è così che funziona. Quindi tu vedi che tutta la letteratura moderna, ortopedica è tutta concentrata sulle interventi di osso, di osteotomie si chiamano, di rotazione o riorientamento delle ossa. Rispetto al tipo di interventi che tu hai visto mutare nel tempo, sono cambiate anche le tecnologie, cioè oggi ti permette di vedere, non so, una visualizzazione 3D, vedere l'impatto su quell'intervento di quell'osso, di quel paziente? Sì, se c'è bisogno le facciamo, in realtà credo che la cosa fondamentale in realtà su questi interventi è in realtà sempre la gait analysis, cioè qual è il problema? Che tu vedi un bambino che cammina ad esempio con le punte in dentro, a volte sei convinto di dover fare un intervento per ruotare il femore in fuori dalla visita, poi fai l'analisi del movimento e scopri che in realtà non è il femore che ruota in dentro, ma è il bacino che ruota, che accompagna male e quindi devi dire no, non devo fare l'intervento, quindi questo ci aiuta molto. Quindi la gait analysis rimane uno studio fondamentale per voi, cioè se un paziente viene da te con RX delle varie parti del corpo e l'esame di gait analysis già puoi avere una visione un po' più completa. Sì, certo, specialmente se devi andare a fare un intervento importante in cui devi cambiare il suo assetto o l'analisi del movimento per noi è fondamentale, perché se no rischi di prendere un po' delle cantonate, questo sì. Anche su questo c'è una diatriba sempre in corso, quando vuoi fare l'intervento, la radiografia richiesta dall'ortopedico, il neuroradiologo dice ma io non capisco come la vuole, ripresa da qua a destra, anche a bacino, piegato, sollevato, c'è un di tutto poi, per cui forse anche su questo bisognerebbe mettere anche il radiologo nell'equip. Sì, noi dobbiamo essere precisi nelle nostre richieste, evitare tutte quelle che sono radiografie non affidabili, quindi è inutile che tu mi fai una lastra in piedi se uno in piedi praticamente non ci sta. Questo per esempio, l'altro discorso che affronteremo per un attimo è sull'illustrazione di anca, per esempio nei protocolli di sorveglianza per verificare che il bambino non abbia un'anca lussata, sappiamo che vanno fatte periodicamente delle radiografie, se le radiografie le fai in modo inaffidabile, cioè le fai in piedi con il bambino che sta storto, non è riproducibile, quindi sappiamo come devono essere fatte le radiografie, c'è proprio uno schema, l'abbiamo messo anche sul nostro sito, l'immagine da portare al radiologo in modo che il radiologo sa come deve mettere il bambino, sdraiato, con le gambe anche un po' flesse, le rotule messe dritte, insomma c'è un posizionamento che… Super utile direi nella gestione del paziente, perché il paziente può non essere collaborante o avere le scatole piene dopo aver fatto 12 visite, quindi secondo me interviene. Esatto. Vai, 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 vai. Ecco, sempre per rispondere al miglioramento che ci sono stati in questi anni, diciamo come tecniche chirurgiche, quello che è migliorato parecchio è la possibilità di non fare più quello che facevamo qualche anno fa, no qua per esempio non si capisce, ma è un femore a livello dell'anca, il femore prossimale, che ha fatto un'osteotomia, quindi è stato tagliato e raddrizzato e poi fissato così con dei fili di metallo che si attaccano al gesso, no? Questa è una sintesi di minima, diciamo, cioè faccio un intervento con poco taglio, metto tutte queste cose che sporgono e poi le toglierò, però il problema è che non ti dà stabilità, quindi sei costretto a lunghe immobilizzazioni, gessi, non puoi muovere il paziente, eccetera. Adesso invece sono nate, ormai da diversi anni, diciamo delle placche, si chiamano placche vitere, bulloni, che tengono l'osso in modo molto forte, quindi non si sposa, tu come l'hai messo, lui sta, che ti consente? Ti consente di non fare il gessi, ti consente di iniziare la fisioterapia, noi per esempio immagino a destra un intervento sul ginocchio, no, per estenderlo e ruotarlo, questo qui dopo pochi giorni cominciamo a muovere il ginocchio, quindi capisci che in termini di recupero vai a velocizzare molto la fisioterapia, specialmente se tu fai interventi multilivello, cioè su tante articolazioni insieme e se tu dovessi mobilizzarlo tutto in gesso, dovresti fare un gesso dal collo fino ai piedi, invece sappiamo che è deleterio, invece no, prima muovi questi bambini, meglio è. Questa per esempio è veramente la chiave di volta, sono gli interventi per il crouch, come hai capito il crouch è la cosa che noi cerchiamo assolutamente di combattere, non bisogna arrendersi in questi casi, abbiamo una finestra breve, ma quando il bambino verso l'età dell'adolescenza incomincia a pesantirsi, a ingrassare, a diventare debole c'è un alto rischio di affaticamento, è che il bambino perda la voglia di stare in piedi e preferisca mettersi in carrozzina e lì, non in tutti, ma in chi ha le giuste caratteristiche, è possibile fare degli interventi, ma sono gli interventi in qualche modo dove dobbiamo agire su tutte le leve di cui ho parlato prima, per esempio questo ragazzo a sinistra aveva i piedi sformati, le gambe tutte rotate in fuori, le ginocchia piegate, le rotule alzate, insomma ci sono tanti aspetti che sono stati analizzati, tutti trattati insieme e tutti raddrizzati a parità di forza, lui non era debole, lui non era debole, lui non riusciva a utilizzare la sua forza efficacemente e quindi la sua forza del quadricipite si disperdeva con i piedi in fuori, messo il suo scheletro nella potenzialità di agire, nelle condizioni di agire, lui è dritto, capito? Quindi lì lui, adesso questa non la perde più perché a fine crescita è contento, è anche motivato per andare avanti, questa cosa qui è stabilmente un risultato che ha raggiunto. C'è qualche differenza maschio-femmina rispetto alla struttura scheletrica o rispetto all'età dell'intervento? Su questa cosa no, su questa cosa no, probabilmente all'età sì, nel senso in termini di meno arca sì, nelle femmine viene prima, su questa cosa direi non... Quindi è meglio intervenire prima o dopo? Ma non c'è un prima o dopo, cioè dipende veramente dalla sua storia, cioè dall'evoluzione, se c'è margine per lavorare in alcuni casi, in altri non c'è margine, cioè non è che questo appena arriva, uno deve correre, deve capire un attimino che cosa è stato fatto a livello di tutore, ad esempio, come è stato trattato, ragionarci insomma, capito? Non è più complesso. Questo è l'altra cosa, anni fa quello che facevamo era quella che ironicamente si chiamava sindrome del compleanno, cioè il bambino ogni anno veniva e tu gli facevi un intervento, l'anno gli facevi l'altennine d'Achille, poi l'anno successivo gli facevi il flessore del ginocchio, poi l'anca e il bambino non usciva mai perché praticamente ogni anno poi doveva ricominciare la riabilitazione in modo da riorganizzarsi in base a quello che era successo. Questo è stato assolutamente bandito e si va, ormai diciamo i centri grossi facciamo questa cosa qua, quindi una chirurgia a multilivello, quindi a diversi posti nello stesso evento, quindi in un solo intervento si vanno a modificare diverse cose, è un intervento più impegnativo, però molto più efficace e meno impattante in realtà. Per cui mi viene da dire anche l'importanza di fare questi interventi in centri clinici riconosciuti, in cui ci siano tutti i reparti, quindi forse delle cliniche private che si occupano solo di questo, magari possono non essere la scelta giusta. Sì, attrezzate, cioè in realtà per esempio noi lavoriamo in un privato convenzionato, però abbiamo la riabilitazione, abbiamo la reanimazione, eccetera, e poi la cosa fondamentale non è tanto dove viene fatto l'intervento, secondo me MAE è il posto, cioè deve essere veramente un legame stretto con un centro di rieducazione, quindi il bambino non è che fa l'intervento e poi ci vediamo fra tre mesi per vedere l'osso come è guarito, MAE fa l'intervento e viene trasferito direttamente di solito nel centro di riabilitazione dove rimane in in questi casi per un periodo, insomma, sostenuto e dopodiché il centro di riabilitazione di solito entra in contatto poi con il territorio in modo che questa cosa vada poi a continuare, non ci deve essere un intervallo, non ci deve essere un intervallo. Questo è ottimo. Poi, insomma, si fa due le cose. Poi sì, sappiamo anche che appunto questi centri non è che siano in tutta Italia, per cui richiedono anche complessità dal punto di vista gestionale. anche rispetto all'età del bambino vedo che a volte si prendono in considerazione anche questi elementi, no? Il fatto che il bambino vada a scuola e quindi magari non può perdere tre mesi. Sì, esatto. D'altro canto però anche il messaggio contrario, cioè l'altra cosa che ho notato è l'errore di critica che io farei. Ho notato a volte un incremento della prescrizione di rieducazione intensiva post-chirurgica. Questa secondo me è una cosa che qui dobbiamo fare attenzione. cioè a volte abbiamo interventi minori che possono effettuare una riabilitazione domiciliare o sul territorio in maniera altrettanto efficace e valida per le famiglie senza necessità di stare un mese o due ricoverati in un centro che sicuramente può offrire qualcosa di buono ma che sul piatto della bilancia forse la famiglia, la bambina sta a casa, forse altri vantaggi dobbiamo considerarli insomma, quindi secondo me occhio anche a non esagerare su questo. Interventi di dubbio efficace, questi sono interventi dove anche questi si sentono molto in ambulatorio, cioè sono interventi che sono stati pubblicizzati negli anni scorsi, tra direi da dieci anni più o meno li conosciamo, non hanno dimostrato nel breve e medio termine un'efficacia, cioè ancora c'è qualcuno che li fa, non ho esperienze positive, vedo pazienti che sono falliti, la letteratura internazionale non ha fatto uscire lavori che fa vedere, no quando una cosa funziona, quando c'è una genialata dopo qualche anno vengono fuori i colleghi che la fanno, cioè si sentono, c'è tutto un pullulare nei congressi che si parla di bei risultati, di queste cose non parla nessuno. Il femore prossimale per esempio, sai di cosa sto parlando qui, praticamente che succede? Quando vediamo un femore, la storia naturale dei femori, le anche dei bambini tendono a lussarsi, no? Allora il razionale è dire io provo a mettere questa vite. Chiariscici il termine lussazione, che vuol dire lussarsi? Vuol dire che la testa del femore, cioè questa palla qua, esce fuori dalla zona dove deve stare, questo qui si chiama acetabolo, l'anca, questa testa qui, la palla va verso fuori, di lato, va sempre verso questa direzione. Questa cosa è grave, è da scongiurare, da evitare, perché? Perché causa dolori, causa... Perché causa dolori, causa difficoltà nello stare seduto, può provocare a sua volta scoliosi e nel bambino che cammina può provocare la perdita del cammino, quindi è una cosa assolutamente da scongiurare. Ci sono diversi studi, adesso protocolli, adesso dopo l'ho messa una slide, per cercare di prevenire il più possibile questa cosa, cioè bisogna prenderla il più presto possibile, perché è brutto da dire, ma specialmente nei bambini gravi, ti parlo quindi del gross motor 4 o 5, non è che non sappiamo se succederà, è che noi non sappiamo quando, ma succederà. La storia naturale è che la sublussazione avviene praticamente in tutti. La lussazione, ci arriviamo soltanto alcuni, però... Perché è data proprio dalla posizione seduta, dall'essere... È data soprattutto dal fatto che non hanno muscolatura che tiene bene in quella zona, non hanno il controllo dei glutei per stringere. I muscoli che normalmente controllano quell'articolazione e fanno sì che il femore stia al posto giusto, in questi bambini non funzionano, sono alterati, sono sbilanciati, funzionano di più alcuni che altri, quindi tutte queste forze muscolari, e l'altro aspetto è il fatto che loro non caricano, non camminano al momento giusto, e il carico serve per modellare un po' questa zona. Tutte queste cose, il terzo elemento è la spasticità, però la spasticità ha perso un po' di importanza, però è anche lei un ruolo, cioè praticamente tutte queste forze sbilanciate portano il femore a peggiorare e allussarsi. Allora, noi sappiamo quindi come prevenire questa tecnica, che cosa ha fatto? Hanno pensato di dire io metto una vite nel femore prima che lui si russi, perché questo è un femore che è in buona posizione, no? Non è lussato, è ancora, diciamo, se tu vai a tracciare una linea dallo spigolo, si vede il mio cursore? Si, si, si. Ok, se tracci una linea che scende da questo spigolo qui, vedo che la palla, questa qui, è direi un 60% dentro, forse anche di più, è una parte fuori, no? Scoperta. Ok, allora se aumenta è peggiore, allora mettendo, questa qua si chiama epifisodesi, cioè mettendo questa vite, l'idea è blocco la crescita di questa zona, della cartilagine di crescita, continua a crescere questa zona e magari col tempo va a migliorare e a rientrare il femore con la crescita, però si è visto che in realtà questa cosa non succede, anche se c'è un razionale che gli ortopedici possono comprendere, in realtà poi nel tempo spesso le vite diventano corte, vedi? Dovrebbe superare questa linea, non la supera più, cioè cresce di più il suo femore che non la vite, per esempio, questo è un bambino che ho visto recentemente, cioè adesso magari è difficile da comprendere perché non capisce l'ortopedia, però c'è ancora qualcuno che la fa, ma non funziona. L'altra cosa, epifisodesi che vuol dire, cioè praticamente vuol dire, noi agiamo, siamo ortopedici, pediatrici, andiamo ad agire sulle cartilagini di crescita dei bambini. Le ossa, tutte le ossa, crescono a livello di queste linee che si vedono qua, queste linee qua, questa è una cartilagine di crescita, questa è una cartilagine di crescita, questa anche, sono quelle dove l'osso si forma, la cartilagine diventa poi l'osso e l'osso si allunga. Allora, noi abbiamo inventato da qualche anno degli interventi molto potenti che si chiamano epifisodesi, cioè praticamente andiamo a modificare come le blocchiamo da una parte, per esempio questa è una placca, che fa? Blocca questa linea da questa parte, la cartilagine continua a crescere da quest'altra parte, mi spiego Francesca? Sì, sì, sì. E col tempo, che succede? Vedi? Si è piegato in avanti il femore, quindi da che era piegato, era flesso il ginocchio, questo è un ginocchio visto di lato, con la crescita le viti si allargano, la placchetta blocca davanti, dietro continua a crescere la cartilagine e il ginocchio si estende. Quindi questo è lo stesso razionale della vite messa prima, funziona diversamente ma è lo stesso concetto, blocca una parte… Il materiale è anche diverso, no? Sì, esatto, ma soprattutto questa è una placca, quella è una singola vite, perché lì non puoi mettere una placca, perché è talmente profonda che non ci arrivi a metterci una placca. Ma noi siamo in grado oggi di prevedere qual è l'allungamento di un osso? Cioè guardando un bambino a tre anni, sai dire fino a quanto crescerà? Cioè ci sono degli esami che ci dicono questo, quindi ci aiutano nella… Sì, questo sì, questo aiuta, cioè siamo in grado di prevedere tante cose, abbiamo le curve di crescita, abbiamo dei… si chiamano fattori di moltiplicazione, cioè anche dei software che ti dicono un po' le curve di sviluppo. Questo esiste, cioè noi queste sono tecniche che noi usiamo regolarmente, per esempio in un bambino normale… Scusa, non… Senza disabilità, usiamo il linguaggio nazionale… Questa la cancelliamo… Con e senza disabilità, no no, benissimo… Senza disabilità, in un bambino diciamo che ha semplicemente le gambe storte, pan al pane, diciamo il ginocchio valgo, no? Ginocchio AX grave, che tu vuoi raddrizzare, noi usiamo queste tecniche qua. Il bambino è in crescita, noi andiamo a mettere queste placchette da una parte delle sue cartilagini, quindi nella parte interna e il ginocchio AX col passare dei mesi diventa dritto. Sono interventi super questi qua, cioè funzionano molto bene e raddrizzano le gambe, o si sono storte da una parte o storte dall'altra, quindi funzionano molto bene. Però non funzionano nella paralisi cerebrale, non funzionano per raddrizzare un ginocchio piegato, quindi a livello intuitivo abbiamo pensato negli anni scorsi di adattare questo intervento che usavamo per altre cose anche nella paralisi cerebrale, ma i risultati sono molto scadenti. Ogni tanto qualcuno va in porto, ma la maggior parte dei casi vai a creare un'alterazione dell'anatomia locale o vai a creare problematiche sulla rotula, cioè non ottieni il tuo risultato. Questo voglio andare a stringere. Quindi siccome ancora c'è qualcuno in Italia che li propone, io metto veramente un semaforo arancione, l'ho messo qui, più che giallo. Cambiamo argomento, è l'anca. Ecco, questa è un'anca lussata, adesso guardi l'immagine di sinistra, vedi questa anca qui? È lussata, quindi la palla del femore doveva stare qui come l'altra, è fuori. Questo è un bambino che ha dei bulloni perché aveva anche una scoliosi, no? È stata già operata la scoliosi, quindi parliamo di un bambino grave, non di ambulante, con un'anca lussata. E se tu guardi le anche dove vanno, vedi che vanno tutte e due a sinistra, no? Questo si chiama colpo di vento, cioè sembra che il bambino abbia preso un colpo di vento verso questo lato qua. Ed è gravissimo perché il bambino è completamente storto, non riesce a stare seduto neanche in carrozzina perché ha le due gambe che vanno da una parte. Anche perché immagino che questa cosa comprima anche gli organi interni, no? Organi interni no, perché parliamo veramente dell'anca, però comprime il gluteo, può dare decubiti qui dove è seduto, perché lui sta seduto storto e quindi va a creare delle piaghe da decubito lì sulla parte della natica di questo lato affetto e quindi non riescono a stare seduto. Quindi è importante, delle volte uno pensa che la lussazione di anca sia un problema così tanto di una radiografia, però sono disabilitanti. È qualità di vita. Sì, esatto, sono disabilitanti, cioè sia la scoliosi che il discorso dell'anca può essere disabilitante. Allora che cosa si è visto? Un tempo che facevamo, quando non sapevamo che fare, dicevamo che quest'anca era inoperabile e allora che si faceva? Non sapendo che fare, si tagliava, si faceva la resezione, cioè si taglia questo pezzo, tutta la parte alta del femore e si porta via. Eccolo qua, vedi? Manca un pezzo per evitare che praticamente questa testa vada a sbattere sul bacino, perché sbattendo può far male, ok? Sbatte, fa male e ti impedisce alla gamba di aprirsi. Allora si fa la resezione, vedi che manca tutto il pezzo iniziale? Questo bianco che tu vedi è semplicemente dell'osso che si è creato, un'ossificazione, ma non c'è nulla, diciamo. E quindi che hai fatto? Hai portato via e lo butti via. Allora però che si è visto nel tempo? Che questa cosa che sembrava di dire, vabbè, oh senti, male che va, alcuni ragionano ancora così purtroppo, cioè di dire io non faccio niente finché si sta lussando, faccio delle radiografie, la vedo che si lussa, dico signore non si preoccupi, tanto se si lussa facciamo la resezione, come se fosse una passeggiata. A parte che è un intervento di per sé anche questo, impegnativo. Ma è un intervento senza ritorno, cioè una volta che l'hai buttata via, non torni indietro e ha dei cattivi risultati. Abbiamo dei bambini che nonostante abbiano fatto questa cosa hanno ancora male, perché? Perché si creano queste ossificazioni, perché l'anca è ballante, diciamo noi, cioè non sta più, non ha più un controllo, non essendoci un perno, un'articolazione nella quale può ruotare, non c'è più stabilità. Esatto, e quindi il bambino può avere male, dopo non sai più che cosa fare, cioè non hai più alternative. Allora, anche qui abbiamo capito negli ultimi anni, sono ormai diversi lavori, che tutte queste situazioni che noi abbiamo operato, ad esempio, sono tutte situazioni nelle quali l'anca era lussata gravemente, a questo punto penso che si capisca, sono tutte situazioni nelle quali era stato detto basta resezione e sono tutti interventi nelle quali invece abbiamo fatto un intervento più grosso, ma in cui abbiamo ricostruito l'anca, cioè l'anca si cerca di ridargli una sua dignità, cioè di rimetterla in posizione in modo che sia ancora il fulcro di movimento, non di movimento di tipo chiaramente funzionale, stiamo parlando di bambini gravi, però il concetto è questo, non facciamo resezioni come soluzione al problema, facciamola se proprio proprio non riusciamo ad avere una soluzione alternativa, deve essere l'ultima spiaggia, altrimenti cerchiamo di ricostruire sempre, capito? Questi sono lavori che vengono da Basilea, ormai c'è la letteratura internazionale, se tu vai nei congressi si parla solamente di questo, non c'è più nessuno che porti resezione di femore prossimale, a meno che non hai veramente il bambino che non ha alternative, ok? Per esempio, questo caso che ha fatto una resezione, adesso verrebbe ricostruito, punto, capito? La sorveglianza d'anca? Sì. Le resezioni e le ricostruzioni di cui ho parlato non dovrebbero nemmeno esistere, cioè bisognerebbe trattare i bambini prima, cioè come si fa? Tutti i bambini, questo è un messaggio che a volte i bambini non hanno, mi è capitato veramente la settimana scorsa, una famiglia che ha detto no io non ho mai fatto un controllo per le anche, questo per me è grave perché i bambini ormai sono seguiti tutti in centri di riabilitazione, neuropsichiatria eccetera, e come ci sono i controlli per la vista, per le altre, la respirazione eccetera, deve essere previsto perché ormai si sa, un controllo delle anche, della lussazione di bambini. Diciamolo questo Manuele, perché i nostri bambini di solito appunto sono mediamente ben seguiti, seguono dei follow up, soprattutto se il problema è stato evidenziato alla nascita o se sono prematuri, quindi seguono delle visite periodiche di controllo, una visita periodica che fanno sicuramente un appuntamento è quello ogni sei mesi o un anno con l'elettroencefalogramma oppure ogni tot anni a ripetizione e a risonanza magnetica. Dal punto di vista ortopedico che cosa va fatto? Ci sono degli schemi, sono degli schemi ormai riconosciuti a livello internazionale e si assomigliano molto tra di loro, ecco il primo che è uscito è quello svedese, ha fatto già un follow up a 20 anni, parliamo di un follow up a 20 anni, c'è quello australiano, c'è quello dell'American Academy, ormai ogni nazione ce ne sono almeno 7-8 in giro, si assomigliano a tutti quanti molto, non esiste quello in Italia, so che avete fatto anche voi un lavoro, no? C'è questo lavoro che è ancora in corso di Care Pathway coordinato dalla Simfer e da una serie di altre società scientifiche, per cui assolutamente lì è benvenuto l'inserimento dell'occhio dell'ortopedico perché è fondamentale secondo me in equip. Esatto, allora in attesa del protocollo che verrà fuori da queste linee, quello che voglio dire è che queste linee a livello internazionale esistono, esistono già da tempo, anche da 20 anni, quindi incominciamo intanto a utilizzare quelle che ci sono in attesa di quelle italiane. Che cosa ci dicono? Ci dicono che questo problema dell'anca c'è ed è per tutti i livelli di gravità della paralisi cerebrale ed è proporzionale alla gravità del bambino, proporzionale la gross motor, quella che dicevamo prima, quindi è tanto più a rischio il bambino quanto più è grave, quanto più è… Quindi in linea di massima, gross motor 1 e 2, che faccio? Una radiografia? Allora, la gross motor 1 praticamente non ha bisogno di radiografie, quindi è un bambino molto autonomo che si muove spontaneamente senza ausili, praticamente non ha questo rischio, a meno che la clinica, quindi dalle visite questa cosa non venga fuori che c'è qualche elemento di sospetto, altrimenti non c'è un rischio. Si vede male la slide, questo qui è tratto dal nostro sito, però qua si vede la gross motor 2 e questa qua, si vede? Sì, sì. La gross motor 3, 4 e 5 sono queste qua. Allora, tutti quanti devono fare una radiografia a due anni, a due anni, 24 mesi o appena è stata fatta diagnosi di paralisi cerebrale, quindi vuol dire precocemente, perché? Perché sappiamo che c'è già un rischio precoce, a volte si ritrovano già bambini di due anni, due anni e mezzo, tre quadri che non ci piacciono, quindi se tu fai una lastra a queste qui dopo qualche anno è già troppo tardi, quindi prima lastra precoce e poi ci sono delle lastre da fare più o meno in proporzione a quella che è la loro gravità, qui ti dice dopo un anno, un anno e mezzo, qua ti dice dopo un anno e poi in base a quello che tu vedi, se la situazione è stabile, allora puoi diradare un pochettino, se vedi che c'è già un peggioramento, invece aumenti la frequenza e il concetto che riguarda, se tu guardi un bambino di una gross motor 5, vengono consigliate lastre una volta all'anno, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 anni, è tanta roba, praticamente non lo fa nessuno, praticamente, ok? Mentre in un bambino di ambulante, una gross motor 2, ti puoi consentire di fare una lastra all'inizio, una lastra a 6 anni e una vicino alla fine della crescita, capisci? Quindi dosiamo il numero di radiografie, il concetto è ho paura a fare radiografie, no? Le radiografie fanno male, sono non le classiche cose che si dicono, è chiaro che sono tutti studi che sono stati fatti di rischio beneficio per i quali vale meglio una radiografia per evitare una problematica che non quelle che possono essere 5 radiografie, no? Poi se ci pensi, se tu mettele in proporzione a una TAC, per esempio, cioè non è nulla in realtà, 5 radiografie nell'arco di una crescita, per escludere una problematica che è concreta, perché la allocezione… Devo dire che da questo punto di vista non mi sembra mai aver sentito, o forse perché c'è poca sorveglianza ancora, però non ho questa percezione di dire non faccio l'esame perché non è utile, anzi, cioè in questo caso secondo me si ravvede anche dal punto di vista delle famiglie la necessità. Buono anche che tu abbia lasciato il link, così poi chi è interessato magari approfondisce anche sul… Sì, perché qui sulla destra ho messo, perché questo secondo me è fondamentale, lo dicevamo prima, cioè come deve essere messo il paziente, diciamo sempre di portarlo al centro di radiologia, il paziente deve essere messo così, perché se fai una lastra non la fai così e dopo non capisci niente, quindi giudichi male la radiografia. E giudichi male anche il genitore, mi sono sentita dietro una serie di improperi perché non sapevo come andava messo questo bambino, ma magari non ero io quella deputata a saperlo. Esatto, sì, sì. E quindi ecco, ancora il concetto è questo che volevo aggiungere, non è che perché fai la radiografia e trovi il problema allora devi operare, perché c'è la paura di dire allora ho fatto una lastra, Dio l'ortopedico era mia opera, no. Quella radiografia poi va giudicata, allora va giudicata poi nella sua evoluzione. Quello che adesso va bene, magari vedo, non so, una percentuale di lussazione del 30%, dico vabbè, vediamo un po' come va avanti, continuerà a fare la sua terapia, eccetera, la rifaccio e magari è stabile e non devo fare più niente, oppure va al 40%, posso fare ancora qualcosa, cioè non è che, però l'importante è che è una decisione medica che prendo, non mi tappo gli occhi e dico… E forse è una decisione… E forse è una decisione anche che è più facile vedere in trend, quindi se segui un paziente per un periodo anche molto lungo, quindi hai dei controlli periodici che ti permettono di valutare quando e se intervenire? Certo, è così, ma come dire, una decisione medica, io vedo purtroppo, vedo anche seguiti da centri importanti che fanno la radiografia e mi portano il plico di radiografia dove si vede un anca allussarsi progressivamente e dove non viene mai presa una decisione. Cosa c'è dietro? Non lo so, la paura dell'ortopedico, non vedo altre spiegazioni perché si pensa che l'ortopedico possa solo far peggio di così. Poi ti ritrovi con anche disastrate, che… oppure c'è anche l'idea che le anca poi non facciano male, c'è anche questa cosa. È vero, qualche volta può essere che in qualche adulto, anche grave, qualche lanca non fa male, ci sta… Magari il malessere si manifesta in altro modo, no? Penso l'adulto che magari non riesce ad esprimere la sensazione di dolore, probabilmente lo vede di riflesso su altre routine… Sì, sì, c'è anche questo aspetto. È complessa, però quando vanno a fare degli studi e vanno a vedere la qualità di vita dei bambini in cui nessuno ha fatto della chirurgia ortopedica e rispetto a bambini nei quali invece si è stati dietro la problematica, che vuol dire, ti parlo di un bambino grave, dove le problematiche sono scoliosi e l'ostazione d'anca, e li vanno a confrontare e c'è superiore la qualità di vita, quindi non ti parlo di radiografia, ti parlo di qualità di vita di un bambino che ha la schiena corretta e le ha anche in sede rispetto a un bambino lasciato andare a se stesso con la schiena distrutta e le ha anche lussate. Quindi credo che sia un messaggio importante questo. Sì, sì. Ti chiedo un'ultima cosa, Manuel, mentre andiamo avanti. Ci sono delle problematiche neurologiche che a volte rendono magari l'evidenza del quadro un po' più complicata, penso alla distonia, penso alle forme atassiche, cioè esiste qualcosa che, qualche raccomandazione specifica su questi quadri qua rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi questi tipi di interventi. Sì, alcune cose rimangono le stesse, sono pazienti, a parte che sono meno comune, meno frequenti, però vanno comunque considerate gli stessi aspetti per molte cose. Bisogna chiaramente conoscere le differenze, per esempio il bambino atassico difficilmente ti fa un'allossazione d'anca, per esempio, lo sappiamo, il rischio è bassissimo. Il distonico invece ha molte similitudini, allora cos'è? Molte di noi hanno nell'orecchio questa cosa che il distonico non va toccato perché si creano solo danni. Anche qui, col tempo, l'esperienza e ci sono delle review recenti proprio su questo argomento, si vede che se si usano gli stessi concetti di risparmio muscolare, di leve, di controllo delle anche, eccetera, si ottengono buoni risultati. Certo, non sono gli stessi risultati che nella paralesi spastica pura, è chiaro che la situazione è più complessa. Quello che bisogna imparare, per esempio, è fare attenzione a toccare i muscoli perché nel distonico tu spesso non sai come raggiungere la situazione. Quindi in questo sicuramente l'inesperienza è pericolosa, cioè andare a toccare una situazione tu rischi poi di instaurare dei meccanismi peggiori rispetto a quella che era la deformità iniziale. Questo sì, però sì. Chiaro, chiaro anche questo. Dimmi tu Manuele, se c'è qualche altro punto che vuoi toccare, se no io ti faccio una domanda finale, anche perché ti ho lasciato credo senza fiato, senza voce, ti ho fatto parlare per due ore. Vai, vai pure. Non so, avevo preparato qualche slide, se vuoi, sulle tecniche che adesso vanno un po' di moda, se vuoi, se no rimandiamo l'altra volta. Per me no, per me va benissimo, volevo solo risparmiarti come… Ancora c'è tempo, ancora ci sono. Due parole sulla fibrotomia, perché adesso purtroppo non c'è, questo è realistico, non c'è famiglia che non ne parli e spesso, come dire, te lo dicono anche a fine visita o dopo, insomma, quindi la fibrotomia è un argomento che è all'ordine del giorno. Ce ne sono diverse tecniche, diversi cugini, diciamo, di procedure, perché viene chiamata la stessa tecnica, molto simile tra di loro, con nomi diversi. In Italia si sente molto parlare della fibrotomia graduale, Ulcibat, questo per esempio a Barcellona, Nazarov, fa la mioteno fasciotomia. In America invece si parla di SPML, ma dottor Nuzzo e poi ci sono altri colleghi che fanno anzi tecniche per cutanee, però allora il calderone è lo stesso. Chiaramente quando tu parli con uno ti dirà no, 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 io faccio quell'altra, cioè mi rendo conto che c'è anche questa cosa. E sono tipo brevettate queste tecniche, cioè ognuno ha dato il nome ma perché usa un bisturi particolare. C'è anche questo, la verità è che ognuno dice ma non dice, cioè il problema principale che, torno al discorso di prima, cioè in medicina non si fa così, nel senso se tu hai una tecnica valida la esporti, la pubblichi, la condividi, dimostri risultati, li pubblichi a distanza, ecco questo è una cosa che purtroppo queste tecniche condividono, cioè anche in America il movimento è la stessa cosa, pure negli Stati Uniti, il professor Nuzzo, non so come si pronunci, però sono tutti molto autoreferenziali, cioè tutti basati sui risultati dichiarati, basati su siti, non ci sono lavori scientifici, allora parliamo per chi non sa di cosa stiamo parlando, cioè sono interventi dove si vada a agire sulle fasce, quindi invece che sulle fibre muscolari, la agiamo sul di fuori, sul contorno, sui bordi, ecco per dirlo veramente, sulle aponeurosi, con un micro bisturi, per cutanea, cioè non apro, non incido, apro, guardo e taglio, ma con un bisturi attraverso la pelle, quindi praticamente faccio un micro taglietto che neanche si vede, cioè il puntino e veramente basta mettere un cerutino. Ma è in anestesia il paziente, è in anestesia brutale? Ovviamente sì, ovviamente sì. Il paziente dorme, quando dorme viene fatto questi micro taglietti in tanti muscoli insieme e questo consentirebbe di non immobilizzare il paziente, quindi sono caratteristiche comuni a chi fa questi interventi, fa tanti interventi, vengono generate queste schede sotto, con tante crocette, ogni paziente… E c'è anche questo senso di sequenza dall'alto al basso? C'è il senso, questa cosa di granulare? No, no, loro valutano il paziente, fanno una vista ambulatoriale, lo rivalutano una volta che dorme e fanno tanti micro taglietti su dove reputano che sia giusto farli, capito? Allora, prima critica, assenza di trasparenza, non c'è una descrizione ufficiale. L'altra critica è per cutaneo, ai genitori questa cosa piace molto, non fai danni, perché per cutaneo è un micro bisturi. Un micro bisturi, se io te lo infilo in un occhio, danni ne fa, no? Ok? Quindi è stato molto volgare, però non è che il fatto di essere un micro bisturi che vuol dire non far danni. Per esempio c'è questo lavoro che è interessante, che fa, prova a fare la stessa cosa per cutanea sui flessori delle ginocchia di cui parlavamo prima. Prova per cutaneo un esperto con vent'anni di chirurgia alle spalle, la fa per cutanea per cercare di fare solamente la fascia, dopodiché arriva il secondo chirurgo, apre e va a vedere che cosa è stato fatto e trova che praticamente nella maggior parte dei casi in realtà non ha tagliato la fascia, ma ha tagliato il muscolo, perché il limite di dove fermarsi è veramente minimo, c'è e non c'è esperienza che tenga. Quindi quando tu senti la tensione, perché uno dice palpi la tensione, dico taglio e tolgo la tensione, ma quella tensione è il muscolo magari, quindi è un attimo che tu hai creato il danno, perché come abbiamo visto prima, se tagli il muscolo, il danno l'hai fatto, capisci? Quindi non è che se lo fai per cutaneo fai meno danni, il danno è lo stesso, solamente che non l'hai visto, perché l'hai fatto attraverso un micro buco, ma il danno è lo stesso. Il fatto di farne tanti insieme, sui siti leggi, fino a 22, ma cos'è importante? Che ne fai tanti o che li fai bene? Velocizzo e recupero, ok, è importante velocizzare il recupero, ma se facciamo le cose giuste, non perché io il giorno dopo ti metto in piedi, allora questo è superiore, ok? Cioè sono tutti punti che il genitore che cerca giustamente una risposta, giustamente si fa attirare, perché anche io mi farei attirare con queste immagini del facile per cutanero, eccetera, però ragioniamo su ogni singolo punto di questa pubblicità, c'è del buono in questa cosa, le indicazioni, ma palpare con un dito durante la visita, no, però lui ha l'esperienza, lo sa fare, c'ha il bisturi buono, brevettato, sono tutte cose che nascondono, secondo me, molto fumo, ma questa è una mia percezione, ma non è solo la mia, perché io mi confrontavo con il mio collega proprio due giorni fa a Basilea, uguale a questa percezione, perché poi questa è una cosa che sottotraccia, lavora un po' dappertutto questa cosa qua. Anche perché questo metodo di affabulare le famiglie o comunque le persone in una situazione di vulnerabilità segue un pattern molto comune anche su diverse cose, quindi sono sempre molto vago, ti prometto miracoli a lungo termine, ti permetto di valutare un'efficacia a breve termine, ti parlo di qualcosa che fa bene dal mal di testa alla cellulite. Esatto, esatto, anche questo sì. Questi qui sono elementi che secondo me oggi un paziente esperto dovrebbe imparare a riconoscere anche nella lettura, da profano ovviamente, di quello che però sono le pagine pubblicitarie di un sito. Sì, le dinamiche sono le stesse, le dinamiche sono sempre le stesse, sono così grandi promesse. Per esempio, il classico, il bambino, abbiamo studiato ormai, ormai capiamo anche noi questa cosa, tu vai lì e vengono allungate per via per cutanea con questi microtaglietti, contemporaneamente gli ischio crurali, il tricipite e il quadricipite, è un classico, questi 22 taglietti prendono sicuramente questi muscoli. Ormai penso che chi ha seguito un po' la lezione mi sa dire da solo che non ha un senso. L'ho imparato anch'io. Esatto, meno male, allora qualcosa si è servito. Non è un razionale, non è che ve lo faccio, poi vedi il bambino che appoggia, le famiglie dicono non l'aveva mai appoggiato, miracolo, ma è meglio o peggio? Abbiamo capito che è peggio, no? Ma è sul loro sito. Adesso non mi ricordo se questo era il sito, ma citano, cosa citano? Citano il sito di Nuzzo, cioè si citano tra di loro e riportano che non c'erano casi di infezioni, non c'erano casi di allungamento, soddisfazione del 100%. A parte che 100% per me già, a me puzza sempre, però al di là di questo. Ma dipende sempre come l'hai valutata la soddisfazione dei genitori, è stato somminastrato un questionario. Sì, ma poi c'è sempre questo bias, cioè se tu fai un investimento importante dal punto di vista emotivo e dal punto di vista economico a volte, no? Sì. Che spesso sono a pagamento queste cose, fai questo investimento e dopo in qualche modo cerchi di vederci del buono sempre in questa cosa, no? Purtroppo spesso funziona così. Sì, è un meccanismo opportunistico di risparmi al dolore, quindi anche questo è abbastanza comune. Letteratura, vai a cercare la letteratura, ci sono delle belle review che hanno cercato e non trovi, non trovi, non trovi niente. Anzi, riporti l'indebolimento, ipercorrezione, che è quello che vediamo quotidianamente, che è relativo a quello che abbiamo detto prima, cioè trovi i bambini più deboli. Parlando con colleghi che hanno visto fisioterapisti, eccetera, trovi molti bambini che vengono visti più rilassati dopo il postoperatore e velocemente di nuovo rigidi un'altra volta, no? Quindi velocemente che si rigidisce un'altra volta la situazione. Però anche qui loro ti dicono, beh, possiamo ripeterlo questo intervento? No. Cioè, programmano interventi recurring. Non c'è un senso in questa cosa, sappiamo che rifare vuol dire tebolezza, quindi vai ad aggiungere fibrosi. Dal punto di vista commerciale ha molto senso questa cosa. Ovviamente. Io aggiungo, mi spiace dirlo, che quest'ultimo punto, dubbi sulla sicurezza clinica. Allora ho avuto un bambino tempo fa che aveva già fatto la fibrotomia, aveva fatto la valutazione lì, già fatta, viene per un'anca lussata, dolente, deve fare l'intervento di ricostruzione. Andiamo a studiare il bambino, il bambino aveva un deficit importante della coagulazione, tanto da dover necessitare di farmaci, no? Per proteggerlo in caso di intervento sull'anca. E questo intervento, questo bambino aveva fatto l'intervento di fibrotomia senza nessuna sicurezza. Quindi questa rischiava di fare ematomi importanti a seguito dell'intervento senza nessuna protezione. Quindi mi domando anche un pochettino, secondo me, il fatto che venga venduta in mascherina velocemente, no? Base at the hospital. Non lo so, io, forse mio figlio qualche domanda in più me la farei, però capisco, capisco quello che ci può fare. Giusto. No, no, il nostro obiettivo oggi è fare chiarezza, anche da questo punto di vista. Poi ti rifletto, magari da qualche anno verrà fuori di più e cambierò idea, però adesso gliela penso in questa maniera. Questa è una review francese, se volete ve l'andate a leggere, del 2018, dove in Francia hanno lo stesso problema nostro. Si ritrovano con famiglie con diffidenza nei confronti loro, dei chirurghi, diciamo, dei medici tradizionali, che vanno a fare all'estero, di là vanno a Barcellona, dalla Francia a fare questo intervento. Poi non si relazionano con i terapisti locali, insomma, c'è queste problematiche che noi vediamo quotidianamente e vengono riportate in altri stati, quindi questo è abbastanza significativo. È diventata una moda? Sì, è diventata una moda. Innanzitutto noi facevamo già, anche adesso, ne facciamo chirurgia percutanea, cioè se io faccio un intervento di ricostruzione, se faccio un intervento di crouch, una parte dell'intervento è una fibrotomia, cioè faccio parte dell'intervento per via percutanea, non è che tutti gli interventi devono forza fare una cicatrice gigante. Allora, fibrotomia vuol dire, tomia taglio, fibro taglio… Taglio invece che il teno, teno e il tendine, tenotomia, fibrotomia taglio la fibra, cioè l'aponeurosi, la fascia, che è quel tessuto fibroso a cui si attacca il muscolo sostanzialmente, no? Allora, per esempio, questa cosa che mi fa girare abbastanza alle scatole, però ne parlerò pochi colleghi, sostanzialmente è uscito recentemente un lavoro perché si è visto che questa cosa piace, si è visto che questa cosa va di moda e allora è stato fatto un lavoro, è stato fatto anche un sito italiano dove si sponsorizza questa cosa e viene fatto un lavoro scientifico che dice che queste cose vanno benissimo dove dicono nessuna complicanza, parliamo di ortopedici, nessuna complicanza. Allora, pazienti di questo centro qui li ho visti, ho visto le complicanze, quindi già che tu mi dici non c'è nessuna complicanza, già un pochettino mi girano. Poi i risultati vengono valutati in termini di ROM, cioè di movimento. Dicci che cosa è quest'altra sigla che sentiamo sempre, l'acronimo sta per range of motion? Range of motion, cioè praticamente arco di movimento, quindi quanto muove il bambino, quanto muove. Allora, che succede? Se il bambino è in equino e io gli faccio la fibrotomia o gli faccio l'allungamento d'Achilla o gli faccio qualsiasi cosa, il bambino da essere in punta muoverà la caviglia, ok? Però non è che più muove la caviglia è meglio è, l'abbiamo imparato prima, no? La caviglia deve essere mossa il giusto, cioè la tensione del tricipite deve essere quella giusta, quindi io non devo allungare più a lungo più il risultato, no, è meglio il risultato. Credo che sia chiaro questo discorso. Non possiamo valutare un bambino gross motor 2 o 3, cioè un bambino che cammina in termini di ROM, cioè stiamo tornando 30 anni indietro, se diciamo che è un buon risultato è perché il bambino guadagna movimento, stiamo 30 anni indietro, eppure questo lo leggiamo su Wikipedia, lo leggiamo su riviste di serie C, insomma, capito? Quindi secondo me, io capisco che ci sia la volontà di pubblicare, di attirare, però secondo me… Beh, però è anche importante che secondo me una famiglia oggi, al di là appunto della volontà o meno di approfondire, perché poi invece su alcune famiglie basta una buona relazione con un medico di cui è fiducia, perché non è neanche la necessità di approfondire, però dall'altra parte ci sia anche la consapevolezza della validità delle fonti, che quindi se un sito o una review non è stata fatta basandosi su alcuni criteri, ecco non… perché è scritto su Wikipedia non è il verbo assoluto. Si fa fatica, si fa veramente fatica, perché ormai tutti quanti noi andiamo su Wikipedia la prima cosa che facciamo, e si va sui siti, e purtroppo si fa fatica a distinguere, cioè queste cose le distingo io… Sì, però dall'altra parte non si può neanche criminalizzare internet, no? L'altro giorno un medico mi diceva dove l'ha letto? L'ha letto su internet? Beh, trascorro la mia vita su internet, nel senso vivo, consulto esami, quindi posso accedere a PubMed, posso fare qualsiasi cosa, quindi il più credo sia nel fare chiarezza fra quello che è un po' l'obiettivo dell'incontro che abbiamo fatto oggi e del tempo che ci ha dedicato per capire in linea di massima, ecco sicuramente non entriamo nell'approfondimento specifico che invece è quello che compete al medico e alla visita ambulatoriale, ma perlomeno di stricarsi un po' meglio fra anche la qualità delle fonti. Certo, sì sì, perfettamente d'accordo. C'è del buono, sì l'ho già detto, quindi io non butterei tutto quanto via, c'è del buono, c'è alcune applicazioni secondo me sono buone nei bambini gravi, sono alcuni bambini in cui sono talmente gravi che magari come dire un rilasciamento ci può stare, nell'ambito di una procedura multilivello ci può stare, però insomma adesso non è non venduta come viene venduta in questo momento, semplicemente. Qui è un argomentone di cui appunto ti avevamo chiesto di parlare perché anche su questo c'è tanto fermento, dici tu Manuele se preferisci appunto rimandare ad un'altra puntata, se vogliamo accennarlo adesso. Sì, ma io lo accennerei perché tanto anche perché diciamo che non me ne occupo direttamente, quindi magari possiamo fare un accenno rapido. Assolutamente. Semplicemente, anche se non si, magari la gente forse è un po' stanca, però forse la... Vai, 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 che piuttosto noi ti possiamo seguire a capitoli, quindi non c'è problema. Perfetto, ok. No, niente, soltanto che cos'è la risiotomia dorsale selettiva, rientriamo nello schema di prima, nello schema di prima di cos'è la spasticità, scusami, di come si gestisce la spasticità, la risiotomia si pone in quest'angolo, cioè parliamo di una procedura che è generale ed è permanente, cioè una volta fatta è definitiva. Allora che cosa si va a fare praticamente? È una procedura neurochirurgica, non è una procedura ortopedica, quindi io non me ne occupo. E per diminuire... L'ortopedico non interviene in questo caso, è il neurochirurgo. È il neurochirurgo, no, adesso credo che all'estero qualcuno sia anche l'ortopedico che si occupa, però non è veramente... il nostro campo in Italia non è l'ortopedico che si occupa. Che succede? Allora, siccome la spasticità, alla base della spasticità ci sono, diciamo, l'avevamo detto all'inizio, parte della spasticità è legata a questo arco riflesso errato che si crea tra il midollo e il muscolo, che non viene controllato perché normalmente viene inibito, viene controllato dall'alto, dal cervello, anche per semplificare. Allora, siccome non c'è questo controllo che parte dal cervello, questo arco riflesso tra muscolo e midollo è esagerato e dà la spasticità, l'aumento del tono. Aspetta che non ti abbiamo perso un attimo come connessione, ti vedo congelato, non so se magari è successo qualcosa, però proviamo a togliere la proiezione, vediamo se ritorniamo. Eccoti. Mi senti? Ci senti? Vai, eccoci. Mi spiace. No, no, figurati, nessun problema, ti abbiamo perso per un minuto, ti abbiamo visto congelato. Ottimo, aspetta. Ok. Niente, sostanzialmente, ecco, qui si è identificato il midollo, si va sulle radici dorsali, quindi quelle che praticamente riportano, qua si vede il muscolo, dal muscolo partono delle fibre nervose che danno, diciamo, dei recettori che sono nel muscolo, che servono per sentire un po' il tono muscolare, diciamo, mandano un impulso al midollo, dal midollo poi parte il riflesso che dà il tono muscolare al muscolo. Allora, si va sulle radici dorsali, ed è per questo che si chiama dorsali, si tagliano le radici che danno quest'arco riflesso, quante se ne tagliano non è chiaro, per questo è un altro limite, cioè non c'è una linea guida che dica ne devi tagliare il 50%, il 30%, il 70%, e questo riduce la spasticità. è una cosa che si fa in grossi centri, ce n'è qualcuno anche rinomato in Italia, e queste sono le indicazioni che si trovano, diciamo, nelle review più importanti, quindi quando farla, il paziente ideale è questo qua, che viene, diciamo, dichiarato, è un paziente valido, cioè non è il paziente grave, è un paziente diambulante, un buon diambulatore gross motor 2 o 3, una di plegia spastica, il prematuro parliamo, dai 4 ai 10 anni, e che deve avere una buona forza e un buon controllo motorio, perché? Perché il rischio è che se invece hai un paziente che è già scarso di suo, tu vai a togliere qualcosa, perché qui vai a togliere qualcosa, il rischio è che tu perdi quello che ha, ok? Quindi, le controverse, questa è una review di un autore molto importante del 2019, mette un po' in discussione, c'è molta controversa, ne ho messo un zafo arancione, diciamo, c'è molta controversa tra chi lo spinge a dismisura e chi lo frena a dismisura, perché ancora c'è molta variabilità in termini di protocolli, del numero delle radici che devono essere tagliate, come scegliere quali radici tagliare, non è chiaro, e i lavori a distanza, come queste review, a distanza di 10 anni o più, non hanno riportato quello che si voleva ottenere, cioè perché viene fatta questa cosa? viene fatta per togliere spasticità, quindi qual è l'obiettivo finale? Evitare che diventi… Fare i piedi. Sì, no, soprattutto evitare gli interventi ortopedici, se vuoi, che diventino rigidità o deformità, si è visto che poi a distanza in realtà fanno lo stesso numero di interventi ortopedici, perché molti prendono ancora tossina o farmaci, quindi la critica che viene fatta è che in realtà non hanno dimostrato quell'efficacia che si vuole, ok? Questa chiaramente, poi in medicina, siamo ancora… su questa tecnica mi sento di dire che ancora, forse il semaforo può essere giallo, diciamo che ancora non mi sbilancerei su questa cosa qua, quindi probabilmente c'è del buono, però non è ancora chiaro dove è il limite che va a posto. La paura è sempre che chi fa questo dalla mattina alla sera cerca di allargare il campo il più possibile, si spinge in territori che a volte sono esagerati. Penso che il punto principale sia questo della spasticità, cioè ci capita, l'ho già detto all'inizio, di vedere i bambini in ambulatorio che sono spastici, ma che palesemente sono spastici per altri motivi. Bambino piccolo, spaventato, che entra in ambulatorio, a cui tu fai le scale di valutazione, questi Ashworth per valutare la spasticità, se il bambino è stressato, spaventato, eccetera, tu hai delle scale molto aumentate, che magari se tu fai le stesse cose a casa, il bambino magari è più rilassato, si modificano anche queste cose qua nel corso della visita, il bambino che ha paura, il bambino è instabile, cioè tutte queste cose qua, mi è capitato di vedere bambini di questo tipo a cui era stata data indicazione a fare la riziotomia, a un bambino io semplicemente avevo messo un AFO, quindi un tutore, i genitori anche dicevano la stessa cosa, ha messo il tutore, il bambino cammina, non ha più l'instabilità, la paura del vuoto, eccetera, quindi vuol dire che non è un meccanismo riflesso legato al midollo, è qualcosa di diverso, quindi è inutile che io vado a tagliare delle radici nervose, mi sembra che il limite in questo momento sia del comprendere quando e come agire, questo qua. È interessante questo escursus fatto da te perché poi appunto avevamo già fatto un approfondimento in passato, sia con Moretti e Pavanello al Gaslini, ma adesso anche sul Bambin Gesù a Roma operano in questa direzione, per cui secondo me anche ci invita a rifare un approfondimento specifico proprio con un neurochirurgo. Io, Manuele, ti ringrazio perché veramente per la generosità con cui ci hai rilasciato queste informazioni che ti dico non è comune in questo settore, per cui per noi è assolutamente utile. L'ultima domanda, proprio in assoluto, prima di lasciarti, specialmente in questi giorni si vedono tante notizie di cronaca su pazienti anche con storie diverse dalle nostre, quindi parlo di pazienti con traumi in età adulta che ritornano a camminare e questo tipo di comunicazione sui media, spesso generalisti, quindi interventi che sono stati fatti o sulle cellule staminali, oppure recentemente anche delle pubblicazioni in Svizzera, a Basilea, su pazienti che tornano a camminare grazie a delle stimolazioni. Secondo te c'è qualcosa che nel campo delle paralisi cerebrali infantili ci possa far prevedere un futuro che magari può essere un futuro di innovazione, ma di impatto anche sulla qualità di vita di questi bambini. Sì, sì, io penso assolutamente sì, cioè assolutamente va seguita la ricerca su ogni ambito, perché poi ogni ambito porta a qualche cosa, non c'è adesso, diciamo, il concreto è che ho la paura, è chiaro che poi il genitore sente la notizia e vuole quella cosa là, però la maggior parte di queste cose sono nell'ambito della ricerca e ci vorrà qualche anno fino a che ogni cosa possa essere applicata nella parte clinica, quindi purtroppo siamo a quel livello là, però è chiaro che quella è la strada da seguire, la strada è la ricerca e ognuno mette il suo, quindi ogni ambito di quelli che abbiamo citato… E in questo caso appunto il fatto che ragioniamo su cervello e ossa e muscoli, sicuramente la ricerca dovrebbe andare non più tanto per silos verticali, ma anche per convergenza di competenze, no? Certo, sì, 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 ma è chiaro, poi noi siamo gli ultimi che arriviamo, è chiaro che noi ci stiamo mettendo del nostro, anche sull'analisi del movimento ci sono passi da gigante, adesso si riesce a fare per esempio questa come novità nel nostro ambito, ne parlavamo l'altro giorno, ci sono proprio, riescono con l'analisi del movimento a fare dei modelli in cui riescono a capire ogni singolo muscolo come si comporta e a prevedere l'effetto post-intervento, questo è spettacolare, mi hanno fatto vedere un modello in cui allungavano gli schiocrurali ti diceva come andava a finire il risultato e quindi però chissà, magari un giorno la chirurgia ortopedica neanche servirà più, no? Se si risolvono altre problematiche, però sì, nel frattempo su ogni ramo secondo me si deve andare avanti. Vero, vero. Grazie ancora Manuele per la disponibilità, noi poi lasceremo a disposizione tutti i contatti, i riferimenti, così per chi ha bisogno di approfondimenti sa che comunque ti trova, l'abbiamo già detto, anche in diverse zone d'Italia, oltre a Bologna. Grazie a voi. A presto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.